Buonasera, buonasera e bentornati a Inonda. Sono ore decisive, cruciali, nessuno sa bene che cosa sta per succedere rispetto alla questione dell'epidemia, del covid. Domani c'è un Consiglio dei ministri con le nuove misure che saranno adottate. Circolano voci, zone gialle, zone bianche, vedremo. Ne parleremo più tardi con Franco Locatelli, che sarà nostro ospite, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Ma intanto, da pochissimi minuti è iniziata la riunione di Conte con il resto dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e di questo e d'altro, delle notizie di giornata, parleremo naturalmente con David Parenzo, che come sempre è con noi, con Pierluigi Bersani, buonasera e benvenuto, e con Augusto Minzolini, direttore del giornale. Poi molti altri ospiti, ci saranno con noi più tardi Sandro Veronesi, Candida Morvillo e tanti altri. Pochissimi secondi di pubblicità e torniamo con voi. Buonasera e buon martedì. Il governo dal domani ha lavoro sul Green Pass e cercheremo di capire che cosa e come cambierà la nostra vita. Ci sono diverse ipotesi sul tavolo, ma domani sarà davvero un momento decisivo perché si capirà molto anche delle vacanze degli italiani e come il governo intende gestire la questione dell'obbligo vaccinale. In più è in corso in questo momento l'incontro tra Conte e il Movimento 5 Stelle, infatti c'è per noi lì davanti alla Camera Luca Sappino. Buonasera Luca. E con noi in studio buonasera all'onorevole Pierluigi Bersani, il direttore del giornale Augusto Minzolini, Concita del Gregorio. Buonasera. Buonasera Concita. Io partirei però, se siete d'accordo, subito con Bersani e poi gli aggiornamenti ovviamente dall'incontro in corso tra Conte e i 5 Stelle con una prima considerazione di questo tipo. Nella fase che stiamo vivendo, da una parte la variante Delta che mette in seria discussione tutto il meccanismo delle riaperture, la pandemia che ovviamente non è finita, dall'altra il semestre bianco. Diciamo che questi due fattori portano Bersani a una considerazione naturale, cioè che voi siete destinati a governare con Salvini almeno fino alla fine della legislatura. Dico con Salvini, ma potrei dire anche con Forza Italia. Insomma, questo governo è destinato a durare, però mi piaceva sottolineare con Salvini nel suo caso. Allora, ringrazio. Prego. Molto gentile. Sì, penso anch'io che a questo punto si debba, nei limiti del possibile, garantire la stabilità a questo governo. Quando si dice nei limiti del possibile, si dice nei limiti del possibile. Parlevamo di pandemia, su questo non si scherza, no? Cioè qui non c'è questione destra, sinistra e queste balle qui. Qui abbiamo, lo dico una cosa che mi pare di buonsenso puro. Cioè noi abbiamo avuto dal Ministero della Salute una cosa strepitosa, inedita nella storia italiana. 29 milioni di certificati scaricati via digitale, una cosa inedita. Beh, ma non ne facciamo niente? Non lo so. Io vi ringrazio perché è la prima volta entrando qui nei vostri studi che ho potuto tirare fuori questo documento. Credo che dare un grado di libertà in più, poi il governo dirà quanto, dove, come, così via, a chi fa il vaccino sia una cosa elementare e l'unica che possa sollecitare anche chi sta resistendo, dimenticando, fregandosene. Non sarà un caso che appena Macron ha annunciato una cosa così in una settimana hanno fatto 3 milioni in più di vaccini. Perbaco. E qui non voglio sentire delle cose fuori dal mondo. Queste cose, ragazzi, è un anno e mezzo, io sono venuto qui un anno e mezzo fa, è un anno e mezzo che sentiamo questa storia della dittatura, quando c'erano le mascherine, e poi c'era l'emergenza, e poi c'era il coprifuoco, fino alle 11, no, fino a mezzanotte, sconvolgente, inaccettabile, vergognoso. Ma, insomma, ragazzi, ma noi qui dobbiamo decidere una cosa. Se applichiamo l'antica rigetta Johnson, prima che andassi in ospedale, che era, che era, lasciamo fare al virus il suo lavoro, che quando ha finito abbiamo l'immunità di gregge. O facciamo così, o ci affidiamo a chi ne sa qualcosa, che ci dia dei limiti. Non si scherza su una cosa. Dicevi governo, io su questo non scherzo, per esempio. Mi spiace, ma non scherzo. Però, Bersani... Perché su questo non si può scherzare. Le voglio fare una domanda proprio su questo punto. Non si può scherzare. Allora, non le sembra che dovrebbe essere una decisione politica quella di dire il vaccino è obbligatorio. Perché se il vaccino è indispensabile, è obbligatorio. Una decisione politica che una maggioranza di governo può legittimamente prendere. Anche perché, se il vaccino non è obbligatorio, tutti quelli che non vogliono farlo sono liberi di non farlo. Certo, si può andare, diciamo, di persuasione, ma non c'è l'obbligo. No, ma guardi, cerchiamo di... Non vorrei che le cose che dice Salvini fossero penetrate. Cioè, non è che obbligatorio vuol dire che il carabiniere ti insegue e ti fa la puntura. Obbligatorio vuol dire che tu non hai accesso anche al tuo mestiere o alcuni servizi se non sei vaccinato. L'obbligo per i sanitari che c'è non vuol dire che il carabiniere gli fa la puntura. Vuol dire che quello lì va a fare un'altra cosa o se ne sta a casa sospeso. Quindi, se parliamo di scuole e sanità dove ci sono delle delicatezze che non è il caso di spiegare, si può arrivare a questo. Ma in tutte le altre cose, ragazzi, c'è da andare al ristorante. Più di metà degli italiani è vaccinato. I ristoratori, secondo me, non la prendo male perché c'è gente che ha remorandare in assenza di questa sicurezza. Quindi l'erizio potrebbe essere a vantaggio anche degli esercenti in questo caso. Ma via via, gradualmente è a vantaggio di tutti. Però la notazione politica che io volevo fare è questa. Non sarà perché è un governo fragile, cioè un'alleanza molto disuguale e quindi non è in grado di prendere una decisione unitaria nel senso dell'obbligo vaccinale. Perché sarebbe molto semplice dire facciamo il Green Pass alla francese, c'è l'obbligo di vaccinarsi, se volete svolgere certe attività vi fate il vaccino, se non ve lo fate non svolgete queste attività. Non vedo così, non vedo... Io credo... Fatemi dire così e non sembri una critica, ma è ora che il Presidente Draghi, come ha fatto Rutte in Olanda, ha fatto Macron in Francia, dica la sua. Punto. Visto che è credibile, è tutto quel che volete, è ora che ci sia un'indicazione precisa. Io sono straconvinto che faranno per il meglio. Mi auguro proprio che non siano condizionati da degli argomenti che fanno veramente... Si potrebbe dire ridere, ma non è lo scenario per ridere, perché qui non si scherza su una cosa così. Quindi adesso il Governo deve prendere le sue decisioni in modo che la gente sappia anche, come dire, come deve comportarsi, come... Io dico che quando hai 28-29 milioni di certificati sei molto avanti con i lavori e quindi devi porti il problema di come li usi. Minzolini e poi torniamo davanti alla Camera con Luca Sappino. Direttore, dice Bersani, Draghi ci deve mettere la faccia, cioè lui che in questo caso, come ha fatto per la verità anche altre volte, è non solo Speranza. Posso interrompere. Si diceva, Conte si diceva che parlava troppo. Può anche essere vero. Ce la metteva tutte le scelte. Io senza proprio Iraq Studio, facciamo una via di mezzo, via. Facciamo una via di mezzo, no? Dai. Però alle volte, come diceva Shakespeare, il silenzio è presenza. Quindi quello Shakespeare diceva così. Allora Minzolini... Adesso non volevo citare quelli a Shakespeare, che so che lei è un amante del bardo. Abbiamo già con Iraq Studio, secondo me, saturato la possibilità. Sineira Hack Studio è... Non è, infatti, Hack. No, ha detto, correttamente. No, no, non... E con questo abbiamo chiuso questa sera. Andiamo avanti. No, no, per carità, basta citazioni. Minzolini invece che ci farà. Il ruolo di Draghi, in verità, in questa fase è centrale, perché Draghi è una fase nella quale tutto può. Cioè, se Draghi decidesse di introdurre l'obbligo vaccinale, probabilmente le voci in dissenso non sarebbero poi così tante. Sì, da questo punto di vista, diciamo, sicuramente il Presidente del Consiglio ha una solidità che gli permette di dire e di decidere. Ma io parto da un presupposto che mi sembra che l'atteggiamento e l'approccio ai problemi di Draghi sia forse il più giusto. Cioè, quello di avere una buona dose di pragmatismo, di non farne uno scontro ideologico, perché purtroppo, fin dall'inizio, diciamo, le vicende che sono state legate a questa pandemia hanno avuto degli scontri ideologici che molto spesso non avevano senso. Parto da un presupposto. Oggi non è che gli esercenti siano tanto contenti di come viene adesso immaginato il Green Pass. Facciamo una cifra, oggi alla Confesercenti che parlano di un miliardo e mezzo in meno. Allora, il problema qual è? Non di non fare il Green Pass, però di modularlo, cioè di creare con un minimo di pragmatismo i luoghi dove deve essere utilizzato, deve essere presentato e dove no. Cioè, ci sono tanti modi. L'unica cosa che non si può fare è avere un atteggiamento troppo schematico, perché una vicenda come questa non puoi utilizzarla col bianco e nero. Devi trovare un equilibrio e credo che da questo punto di vista su molti problemi il Presidente del Consiglio abbia dato prova di avere questa concretezza che in momenti del genere è assolutamente necessaria. Ora, è vero che gli esercenti perderebbero una somma importante. È anche vero però che proprio in queste ore è arrivata la notizia che sono quintuplicati a Roma i casi di Covid. Quella che si chiama la variante UEFA, l'abbiamo chiamata la variante UEFA perché evidentemente sono le conseguenze dei festeggiamenti. Allora, anche questo ha un peso economico. Anche l'aumento, quintuplicare i contagi, quanto costa? Paralizzare le attività, quanto costa? Da una parte c'è il legittimo interesse degli esercizi, dall'altra però c'è il rischio, davvero oggi si parla di variante Epsilon, l'alfabeto greco ormai è arrivato quasi alla sua metà. Quanto pesa la salute e quanto pesa l'economia? Ma io penso, non faccio l'esercente, non ho un ristorante, eccetera, ma mi affido sempre il senso comune. Quando hai 28-29 milioni di persone che hanno il documento in mano e dici guarda che se ce l'hai vieni, io dico che vanno. Se invece sentono che si diffonde il contagio, che sta ripartendo, io credo che si trattengano. Mentre se dici venite voi che avete il documento, penso che ci sia qualche altra milionata di persone che si decide a vaccinarsi. Non è né ideologia, non è né destra, né sinistra, né niente. È un ragionamento. Se no, ripeto, buttiamo via tutto e facciamoci il senso di cose. Quindi quando sento delle reazioni dalla politica a proposito di ideologia che dice Orwell, guinsaglio al collo, sopruso, ma ragazzi ma cerchiamo di essere serie perché questa è una roba veramente seria. Avete visto, oggi in Inghilterra purtroppo a fuori disse Maslons insomma sono ripartiti anche i morti perché alla lunga alla lunga alla lunga alla lunga poi torni a esperti Però l'Inghilterra ha fatto una scelta lì probabilmente non lo so speriamo di non drammate però l'Inghilterra dice che forse è il modello che ha in testa anche un po' Salvini questo non lo so ma l'Inghilterra dice noi riapriamo tutto cioè riapriamo tutto non c'è più la mascherina all'aperto abbiamo immunizzato chi dovevamo immunizzare purtroppo in molti con una dose sola però Boris Johnson oggi fa questa scelta l'Inghilterra rischia di essere la cavia d'Europa da questo punto di vista ma l'è già stata in parte io non lo so se adesso faranno proprio così perché i dati anche di oggi segnalano che si è risvegliato il problema insomma ma se tutto il mondo della scienza di chi sa le cose ti sta dicendo queste cose qui ma perché la politica si impanca a fare i virologi ma che senso ha quindi lei si augura Bersani se ho capito bene che Draghi prenda una posizione nitida e che si vada verso un obbligo vaccinale io non lo chiamo obbligo perché obbligo si può valutare per la scuola nel senso che arrivi al punto di non fargli esercitare il mestiere in presenza lei sa che i sindacati sono contrari lei sa che i sindacati non fargli esercitare il mestiere obbligo vorrebbe dire questo vorrebbe dire io questo glielo lascio valutare perché non ho i dati adesso scusate mi sembra una banalità ma è evidente che se tu avessi 200.000 insegnanti non vaccinati devi capire come fare di fronte al fatto che purtroppo non hai forza se ne hai se ne hai 30, 40, 50 60.000 a fronte del fatto che la didattica a distanza ha dimostrato come ci dicono quelli che hanno fatto hanno verificato che è un mezzo disastro parliamoci chiaro a fronte del fatto lì allora puoi prendere anche una misura di obbligo ma io non per la sanità la si è fatta per la scuola valuteranno per tutto il resto io non sto parlando di sto parlando di un grado di libertà in più per chi ha fatto il vaccino se vogliamo incentivare a fare il vaccino mi pare anche questa sarà una battaglia non da poco non da poco perché già c'è un governo diciamo dove le forze politiche sono distribuite in maniera diseguale e sul tema del non lo chiamiamo obbligo ma insomma per certi settori lo sarà il sindacato della scuola per esempio già molto chiaro che è contrario all'obbligo vaccinale per il personale scolastico il ministro Bianchi sta passando un momento complicato perché vuole andare a ritorno a scuola in presenza ma senza il personale scolastico vaccinato la presenza sarà impossibile il danno che hanno prodotto questi due anni di DAD sulla fascia d'età 16-18 sono misurabili col test invalsi ma sono anche ne parleremo nella seconda parte del programma quello che ha determinato poi questo bisogno di uscire e di ricominciare a vivere di ragazzi che hanno non ce lo dimentichiamo 18 anni che sono stati per due anni chiusi a casa quindi magari quando sentiamo dire i ragazzi si devono vaccinare tutti poi sentiamo anche i ragazzi che ci rispondono sì ma perché non cominciano intanto a vaccinarsi gli ultra 60 anni tutti così i nonni non li contagiamo ma di questo parleremo più avanti Augusto Minzolini oltre a questo quali sono i grandi nodi che in questo momento il governo ha davanti così tra poco sentiamo anche Sappino per questo incontro tra Conte e il Movimento 5 Stelle di Camera e Senato ma le altre grandi questioni su cui il governo avrà non problemi ma insomma avrà su cui ragionare Beh intanto abbiamo immediatamente questa la vicenda della giustizia la riforma cartabia poi c'è il problema del DDL Zan e contemporaneamente ieri probabilmente arriveranno alla fiducia per quanto riguarda il il piano il PNRR perché da quel punto di vista credo che questa notte in commissione il governo sia andato sotto tutto questo dimostra però sai più in generale che c'è una sorta di gueriglia c'è una sorta di insofferenza solo che è un'insofferenza che poi sconfina con l'impotenza perché come abbiamo detto prima non credo che possa esserci un altro equilibrio diverso da questo da qui alla fine della legislatura per cui avremo dei tempi diversi avremo un confronto parlamentare ma a grado tutto acceso ma penso che alla fine non è che qualcuno si libererà i draghi a meno che a meno che Draghi non diventi diciamo uno dei nomi spendibili per il Quirinale e qui ci apre tutto un altro straordinario scenario arriviamo anche al Quirinale andiamo a sentire Luca ma poi vorrei subito dovevo ritornare con Bersani però sul tema appunto che ha appena posto Minzolini cioè la riforma della giustizia perché oggi per esempio questa riforma cartabia che è stata molto criticata ha avuto anche le critiche di persone come il procuratore antimafia Caffiero De Rao che ha detto beh insomma non è una gran riforma ne parliamo fra un attimo ma andiamo da Luca Luca Sappino Beh concita è proprio a quelle critiche che citavi che si rifanno i parlamentari 5 Stelle che hanno letteralmente inondato la riforma della giustizia di più di mille emendamenti emendamenti che il governo sta in questione molto tese devo dirti di rapporti tra il Movimento 5 Stelle e la maggioranza e Mario Draghi sta chiedendo di ritirare Giuseppe Conte è dentro gli uffici dei gruppi del Movimento 5 Stelle c'è anche Luigi Di Maio che è entrato pochi minuti fa il cancello è stato chiuso appena entrato Di Maio da una commessa ti dicevo ore complicate perché Giuseppe Conte ieri aveva assicurato Massimo Sustegno aveva parlato di un incontro cordiale i toni erano soft abbiamo convenuto e però poi oggi i parlamentari hanno fatto la sintesi mi è stata autorizzata la parte del poliziotto cattivo mi è stata autorizzata da fonti parlamentari e hanno presentato mille emendamenti e ora il governo veramente valuta la possibilità di porre la questione di fiducia anche sulla riforma della giustizia insomma Bersani questa riforma della giustizia scritta dalla ex presidente della corte costituzionale per cui diciamo persona informata sui fatti non si può dubitare che la ministra Cartabia sappia di cosa si sta parlando come mai suscita tante critiche anche da parte di persone come il procuratore Gratteri Caffiero De Rao procuratore nazionale antimafia oltre che dal movimento 5 stelle naturalmente ma insomma sembra che ci sia qualcosa che non va qualcuno dice si fa soltanto per avere i soldi dell'Europa ma insomma il discorso naturalmente è molto molto importante molto serio io credo che molti convengano io sicuramente sul fatto che c'è una parte di quelle norme che sono positive che è positiva perché diciamo sgrava il peso dei percorsi processuali rafforza le strutture fa la digitalizzazione dopodiché i punti critici è vero sono due poi possiamo attribuire le 5 stelle questo dibattito politico poi ha le sue bandiere diciamo da sventolare ma sono oggettivi credo che anche la Cartabia ne abbia consapevolezza cioè qui tutti dicono che si rischia di mandare al macero un sacco dei processi io che non sono un giurista però avendo fatto dell'altro confermo che prima di allestire in Italia poi arriviamo ma prima di allestire un rafforzamento strutturale di un settore di un servizio come la giustizia che significa appunto digitalizzazione che significa concorsi assunzioni attribuzioni dei ruoli eccetera cioè non è che ci vogliono due mesi ci vogliono due anni tre anni allora immaginare per magia che siccome hai scritto che Raffa metterai quelle corti d'appello in condizione di eseguire la pratica nei tempi che hai scritto è un bel rischio ecco ma quindi perché si fa perché perché il dibattito è sempre quello no cioè il problema è ma io convengo con lei il problema è allora qui non si può essere processati a vita bo dall'altra parte c'è qui non si può accettare che chi può allungare il brodo perché ha i soldi se la cavi sempre perché stiamo mandando al macero 100.000 processi per la prescrizione adesso quindi se la cava chi la tira per le lunghe adesso qui trovare il giusto equilibrio di quelli in una situazione con un sacco di arretrati che devi diciamo su cui devi lavorare non è certamente semplice allora io credo che se la cartabia se il governo Draghi partissero dal presupposto che una riforma così non è che puoi farla senza che il Parlamento apra bocca no perché allora siamo in un altro fin la riforma della giustizia finché siamo una repubblica parlamentare no e se questo è l'atteggiamento io sono convinto guardate da osservatore che i 5 stelle che ha messo lì 900 non sono non credo che sono lì per far saltare sono lì per mettere a tema questa questione e anche l'altra che è la priorità dell'azione penale che il Parlamento in qualche modo deve diciamo indicare alla magistratura la priorità dell'azione penale cosa molto controverso quando Caffiero De Rao parla di pericolo per la società dice una cosa che le persone da casa possono anche non capire pensa che ci sono dei processi che riguardano anche gente di Indrangheta di Camorra o di mafia che possono andare in cavalleria però Minzolini teniamo perché lei ha detto una cosa molto interessante Bersani attenzione perché c'è il Parlamento che come dire non è una banalità è evidente c'è il Parlamento però qual è il dettaglio Minzolini che la questione è come se Bersani ci dicesse ma poi lo può confermare il governo farebbe male a mettere la fiducia su una cosa così importante come la giustizia è questo che il sottotesto è evidente di quello che sta dicendo Bersani può anche mettere la fiducia se si fa un subemendamento concordato che aggiusti le cose problematiche però siccome è un tema se è un problema tecnico mettere la fiducia per amor di Dio ma il Parlamento deve poter discutere di sta roba ecco e Minzolini e su questo è evidente che quelle febillazioni di cui parlavi anche tu sulla giustizia vengono fuori tutte perché Forza Italia stessa ha detto noi vorremmo modificare delle cose poi c'è come dire la bomba sotto il tavolo dei sei referendum che anche quello sono un incentivo come dire ad andare avanti nel processo di riforma Minzolini ah no Minzolini dicevo facciamo un po' la cronistoria facciamo la cronistoria nel senso si interviene sulla prescrizione dopo una sorta di obrobrio che è stata la riforma firmata da Bonafede quindi si interviene lì e si interviene poi su una richiesta dell'Europa ci sono 996 credo eventamenti presentati dai grillini è chiaro che in una situazione del genere come è successo in altre occasioni il rischio che il governo sia costretto a mettere la fiducia mi sembra abbastanza normale ma partiamo dal presupposto interviene su una cosa abbastanza limitata non è la grande riforma della giustizia questa qui della cartabia anzi è troppo limitata per me per alcuni versi allora io che cosa dico secondo me tenendo conto anche che siamo passati almeno nel messaggio che viene dall'opinione pubblica basta vedere diciamo le firme che vengono in tre settimane sono state raccolte 300.000 firme per il referendum sulla giustizia io cercherei di trovare un compromesso ma un compromesso diciamo mediato in Parlamento quel compromesso però almeno su questi temi già l'ha cercato la cartabia perché è chiaro che c'è da una parte una maggioranza che tira di là e un'altra di là e lei lo dice apertamente dice questo è il frutto di un'ampia diciamo riflessione in cui sono stati diciamo coinvolti un po' tutti se adesso ricominci da capo lasciando diciamo ovviamente e rispettando le prerogative del Parlamento c'è inizio che non se ne faccia nulla anche perché non è detto che poi il tipo di accordo che si trova al Senato poi che ha la Camera poi si ritrova al Senato è già successo sul DDL Zanna ne stiamo parlando in queste ore allora io penso che da questo punto di vista tenendo conto che il referendum dimostra che l'opinione pubblica rispetto al passato ha un'altra ha un'altra visione ed è più preoccupata di altre diciamo questioni riguardanti la giustizia che non quelle che sono state diciamo che hanno caratterizzato gli anni passati io direi che forse sarebbe meglio dare modo al Parlamento di legiferare subito perché altrimenti potrebbe arrivare diciamo un'iniziativa referendaria che potrebbe mettere addirittura ancora di più in discussione gli equilibri che sono adesso diciamo nel nostro ordinamento e lei Bersani rispetta il referendum che posizione ha sarebbe per firmare il referendum io penso con una buona pace del direttore che a parte il fatto voglio dire che definire un obrobrio legge buona fede è certamente imperfetto mi pare che non sia un'opinione diciamo così condivisa francamente cominciare da me secondo l'Europa chiede no l'Europa chiede che noi facciamo i processi alla svelta ma ci ha obiettato la prescrizione non diciamo la rovesio la cosa e infine il referendum può mettere a rischio certo è fatta apposta per mettere a rischio certo cioè voglio dire quando dei partiti che sono dentro una maggioranza di governo che stanno discutendo questa riforma e altre che sono in cantiere per la giustizia raccoglie le firme per fare il referendum è evidente che non vuole riforme vuole la spallata e sotto questa spallata io non sono giustizialista sia chiaro io mi ritengo un garantista ma la cosa che mi fa il sangue amaro è che le galere sono piene al 95% di gente che raramente si è messa la cravata tutto questo garantismo che gira è il garantismo della cravata cioè i colletti bianchi sostanzialmente e questo è indiscutibile riguarda tutti il garantismo non una parte direttore se stiamo alle cose che leggiamo che vediamo se vuole le porto faccio un'ora di esempi e basta quindi cerchiamo la gente guardate che questa cosa non la digerisce mica poi non gli piace una giustizia che non funziona perché è un servizio che non funziona però vorrei obiettare Bersani che fra quelli che non si sono messi la cravatta sono maggioritari i crimini minori i crimini maggiori sono molto frequenti anche fra quelli che si sono messi la cravatta è soltanto che è difficile vederli diciamo almeno queste sono le statistiche non le invento mica io le statistiche quindi ragazzi tornare a dei meccanismi che per esempio la prescrizione o l'improcedibilità processo improcedibile noi che abbiamo inventato le convergenze parallele possiamo anche inventare il processo improcedibile però ragazzi se non è zuppo è pan bagnato anzi se uno viene condannato in primo grado e poi invece è improcedibile siccome non estingui il reato l'improcedibilità lui gira come un condannato gira per strada come un condannato ma voglio dire vogliamo correggerla questa cosina qui più chiaro di così salutiamo e ringraziamo Minzolini che è stato con noi per questa prima parte politica speriamo di ritrovare anche in altre nostre puntate presto caro direttore e andiamo subito da Luca Sappino che ha delle importanti novità sul consiglio dei ministri di domani covid obbligo vaccinale questo dai eh sì david eh sì davide l'importante novità è che devo correggerti pare proprio che il consiglio dei ministri non sarà domani ma giovedì questo perché non sta andando molto bene la trattativa sia nella maggioranza di governo su cosa fare dei parametri per passare da regione da un colore la regione da un colore all'altro sia sull'utilizzo del green pass sia nel governo non va bene la trattativa ma neanche nelle regioni questa mattina c'è stata una lunga riunione delle regioni che però si è aggiornata domani intenzione del governo era fare domani la cabina di regia e domani il consiglio dei ministri mappare serva una giornata in più per sapere che estate passeremo e quindi questa trattativa all'interno della maggioranza allora persona informata perché si vede che c'è un braccio di ferro andiamo a vedere che succede quello di cui parlava anche il bersaglio e allora persona molto informata sui fatti se non altro come dire sul tutto il tema covid e green pass è il professor Franco Locatelli buonasera e benvenuto presidente del consiglio superiore della sanità coordinatore del comitato tecnico scientifico caro professore buonasera e grazie noi come fatto grazie per essere con noi una serata importante come questa e chi più autorevole del presidente del comitato tecnico scientifico per cercare appunto di capire se non altro qual è la tendenza cioè qual è il modello verso il quale stiamo andando ma soprattutto prima ancora scusa perché si rinvia questo perché si rinvia questo consiglio dei ministri di domani perché si rinvia è domanda che va fatta a altri interlocutori certo non a me però la situazione indubitabilmente merita una riflessione e anche qualche scelta che altrettanto chiaramente è di pertinenza della politica e rispetto a questo tipo di decisioni un comitato tecnico scientifico può fare come è nelle sue corde nella sua missione attività di supporto e di consulenza fornendo dati interpretandoli no certo poi aspetto alla politica decide ci mancherebbe certo però un giudizio sul modello francese glielo possiamo chiedere visto che non parliamo di Italia le possiamo chiedere se il modello macro si lo so mi guarda con odio lo vedo no 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 ci mancherebbe d'altro però se le piace il modello francese questo glielo possiamo chiedere visto che riguarda un altro governo allora io mi sono già espresso a titolo personale per un'apertura di riflessione importante rispetto al modello del Green Pass perché è chiaro che se noi guardiamo globalmente tutto quello che è stato l'evoluzione della strategia di gestione della ripresa dei contagi abbiamo avuto una migrazione da quello che era inizialmente la valorizzazione preponderante del cosiddetto indice di contagiosità attualizzata l'R con T siamo poi passati all'incidenza cumulativa sette giorni adesso giustamente si considera anche l'impatto sui servizi sanitari territoriali in virtù della larga proporzione di soggetti che nel nostro paese sono stati vaccinati ma è chiaro che globalmente dobbiamo pensare a far qualcosa per contenere quello che a tutti gli effetti è una ripresa della circolazione virale anche perché non dobbiamo dimenticarci che abbiamo oltre i 50 anni di età quasi 5 milioni di nostri connazionali che non hanno ricevuto una singola dose di vaccino vogliamo dare qualche percentuale in più nella fascia di età dai 70 ai 79 anni il 13% non ha ancora ricevuto una singola dose di vaccino e se uno si infetta in questa fascia di età ha una probabilità su 10 di perdere la vita quindi mi sembra di capire scusi se riassumo in maniera sommaria mi corregga se sbaglio che lei diciamo è favorevole a mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibile anche con misure coercitive o qualche modo io non le chiamerei misure coercitive io le chiamerei misure incentivanti e motivanti perché se posso avere accesso ai cinema ai teatri alle palestre agli stadio alle piscine e a titolo personale dico anche ai ristoranti al chiuso proprio in virtù del green pass beh questo credo che sia una motivazione è quello che diceva lei Bersani si chiamo il dottore subito se mi dicono una cosa come ha detto il professore è chiaro che la gente che non si è vaccinata almeno buona parte andrà a vaccinarsi e poi siamo sicuri che introdurre il green certificate alla fine non aumenti magari anche il numero degli avventori nei ristoranti certo questo lo riprendiamo però rimane la questione politica Locatelli quindi sentiamo Bersani per la questione politica è la notizia che ci ha dato Sapino poco fa infatti io non è che volessi chiedere al professor Locatelli come mai si è rinviato il Consiglio dei Ministri ma quali sono poi le chiederò più tardi le chiederemo più tardi quali sono i nodi politici Bersani ma noi abbiamo un'opposizione che definisce agghiacciante sconcertante inaudito e tutti chi più ne ha più ne metta è una misura così questa opposizione è in concorrenza con un pezzo della maggioranza che quindi deve tenere alto anche lui la bandiera della libertà le chiamano libertà e quindi il problema è questo qui perché io penso che buona parte direi la maggior parte dei componenti di questa maggioranza su una strada del genere poi c'è la remora verrà dalle regioni questa remora l'estate sì ho capito l'estate ma poi c'è l'autunno io posso immaginare che noi facciamo il ragionamento che dice vabbè sì è giusto facciamo però poi lo facciamo poi dopo no ecco altra cosa credo molto molto delicata invece questa cosa qui della scuola qui sì un elemento di riflessione ah non ci sarà questo nel Consiglio dei Ministri che comunque pare sarà spostato scuola e sport non saranno tra i temi almeno così sembra immagino che vogliano pensarci perché 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 per esempio io non so non so se il professore ma io immagino che sulla scuola intanto ci sia un problema di mappatura esatta di quanti insegnanti stiamo parlando di come stanno le cose come è l'afficienza per vedere poi se è possibile perché insomma dopo i dati invalsi c'è venuto un po' uno scrollone a tutti no? diciamo Bersani è per la serie chi l'avrebbe mai detto cioè è una di quelle cose che si poteva anche si poteva anche prevedere no? che se non hanno i ragazzi che non vanno a scuola imparano di meno però quando ce l'hai intanto comunque un elemento di alfabetizzazione digitale eccetera guardate che questa pandemia ce l'ha portato a tutte le età e così via però certamente i dati invalsi ci dicono una cosa drammatica quindi immagino che il governo stia pensando quali siano le condizioni per garantire una didattica in presenza in condizioni di sicurezza immagino che non sia un tema semplice quindi se su questo si prendono qualche giorno o si vaccina o non si vaccina l'ha detto lei prima però come diceva Cucinale Gregorio c'è il problema del sindacato cioè il sindacato è assolutamente contrario all'idea almeno così c'è anche il personale scolastico non ci sono soltanto gli insegnanti per tenere aperte le scuole c'è bisogno del personale scolastico il personale scolastico non sono docenti ma i sindacati adesso io magari non le roche ne conosco ma per amore di lì è chiaro che avrò vorranno delle idee però ricordiamoci che se noi abbiamo avuto una ripartenza nell'industria più brillante dell'altro resto d'Europa è anche perché dopo il primo mese si è fatto un accordo governo sindacati imprenditori su protocolli di sicurezza nelle fabbriche certo quindi noi abbiamo dei sindacati che allora dissero vogliamo lavorare se non troviamo l'accordo noi stiamo a casa io immagino che davanti a situazioni del genere più o meno il ragionamento dovrebbe essere questo Locatelli lei è d'accordo che la criticità della scuola è quella che descrive Bersani Locatelli dopo il mini spot 30 secondi ma sono davvero 30 guardi li possiamo contare professor Locatelli lei pensa che la scuola riprenderà in presenza ci sono le condizioni poi ne parleremo più avanti perché resta con noi ma intanto in una battuta sì anche perché la scuola è una priorità quel che è stato sottolineato prima rispetto ai testi invalsi è una chiara dimostrazione di quanto bisogna assolutamente investire prioritariamente sulla scuola quindi sì in presenza e poi vedremo come ma vedremo come allora Bersani per chiudere questo passaggio Conte Grillo anzi Grillo Conte questo passaggio di testimone porterà aggiovamento al Movimento 5 Stelle c'è una struttura come dire più solida di partito più vicino al partito che diciamo lei conosce ma si potrebbe si potrebbe dire a Conte parafrasando parafrasando la mitica Orietta Berti hai risolto un bel problema ma te ne restano mille ma solo con lei solo con lei i 5 Stelle non hanno voluto fare il governo ma com'è questa storia ma com'è possibile cercavano gli avversari cercavano gli avversari grazie Bersani pubblicità finché la barca va lasciala andare e torniamo invece noi tra pochissimo dopo la città con altri grandi ospiti a tra poco eccoci qua ben ritrovati e siamo qui adesso da soli David ed io col professor Locatelli non ci sembra vero perché potrà rispondere in assoluta e regale solitudine a tutte le nostre domande ne abbiamo moltissime brevi domande e risposte perché da casa davvero non ci si raccapezza quasi più la gente non sa se deve fare i biglietti o non li deve fare i figli devono partire alcuni sono rimasti bloccati quelli che non sono ancora partiti i genitori non sanno che cosa fare e c'è un grande tema che riguarda i ragazzi perché per esempio molti hanno preso il virus in forma sintomatica e quindi dicono non c'è bisogno di vaccinarli se hanno già preso il virus molti altri non si vogliono vaccinare perché i ragazzi spesso abbiamo visto che non si vogliono vaccinare molti altri ancora non ne possono più e magari hanno preso come dire hanno avuto contatto con qualche situazione di rischio ma non lo dicono non fanno la quarantena mentono perché non vogliono restare in quarantena perché sono due anni che i ragazzi stanno fermi adesso Salvini dice mettiamo in sicurezza le persone dai 60 anni in su per i giovani il vaccino non serve professor Locatelli la domanda è per i giovani i vaccini servono o non servono allora partiamo da una prima osservazione dai 12 ai 18 anni quindi per parlare di soggetti minorenni c'è un vaccino approvato dopo stringenti valutazioni rispetto al profilo di sicurezza quindi i vaccini si sono dimostrati sicuri anche in questa fascia di età non sono sperimentali come si sente dire non sono sperimentali e senza voler fare del terrorismo intendiamoci bene se è indubitabilmente vero che la fascia più giovane è risparmiata in maniera importante da morbidità e mortalità da SARS-CoV-2 non dimentichiamoci però che nella fascia 0-18 anni sono morti nel nostro paese 27 bambini 27 e 300 sono finiti nelle terapie intensive per tre quarti o comunque ricoverati in ragione di quella condizione che si chiama sindrome multinfiammatoria sistemica allora già questo è una motivazione importante per vaccinali poi si protegge adesso no scusi non riesco a fare confronti ma 27 sono forse quanti casi di conseguenze fatali in seguito al vaccino perché ce ne sono stati meno decisamente meno quindi è meno rischioso diciamo così da questo punto di vista vaccinarsi che non vaccinarsi prima diceva di 300 casi di sindrome multinfiammatoria sistemica tre quarti finiscono nelle terapie intensive ci stanno per sette giorni quindi non un periodo breve i famosi casi di pericardite miocardite per i quali si è sollevata qualche perplessità sono straordinariamente rari nella larga parte dei casi si risolvono da soli e anche quando i pochissimi soggetti vengono ricoverati stanno molti meno giorni e non nelle terapie intensive quindi i giovani si devono vaccinare lasciami dire Davide una cosa molto personale io oggi ho parlato con un medico con un suo collega primario il cui figlio diciottenne rifiuta di vaccinarsi con l'argomento che non mi voglio iniettare niente nel corpo cioè non mi voglio mettere cose che non so cosa siano in corpo il padre è un medico quindi lei provi a immaginare anche come dire lo sconforto domestico ma la posizione del ragazzo mi diceva il padre nella sua generazione è molto diffusa il padre naturalmente gli ha risposto beh allora con l'alcol il fumo la droga ti stai comunque iniettando qualcosa in corpo però la sensazione che il vaccino sia qualcosa che tu non conosci come dire si è fatta strada ma perché viene caricato di un significato di iniezione del non noto del non consolidato del non sperimentato ed è assolutamente sbagliato è chiaro che con i giovani bisogna sviluppare un dialogo bisogna fornire le argomentazioni perché è importante vaccinarsi e alla scienza certo non mancano gli argomenti per riuscire a fornire tutte le indicazioni e tutte le motivazioni per aderire a una strategia di campagna vaccinale è fondamentale vaccinare i giovani anche per ridurre la circolazione virale per favorire la loro socializzazione per favorire la loro presenza a scuola anche perché abbiamo sottolineato prima quanto è emerso dai test invalsi sono dei dati che devono preoccupare per il futuro delle generazioni di questo paese anche considerando i tassi di abbandono scolastico e aumentano le disuguaglianze assolutamente chi può va avanti e chi non può resta indietro e in più purtroppo con la mancanza della didattica in presenza si genera una deprivazione socio-psico-affettiva ecco professore ci faccio un chiarimento questo è importante perché i casi di depressione di disturbi alimentari sono i soli disturbi alimentari lei è un medico quindi insomma è un medico che si occupa dei ragazzi per non parlare delle ideazioni suicidari io lavoro in un ospedale l'ospedale Bambin Gesù dove il collega che segue questo tipo di patologie ha chiaramente riportato un incremento del numero di riferimenti soprattutto di adolescenti che hanno avuto idee suicidari è una deprivazione mi ripeto sociale e psico-affettiva da cui dobbiamo assolutamente emancipare i nostri giovani nell'interesse del futuro del paese che spiega anche queste immagini che vediamo perché tu esci da situazioni di clausura claustrofobica e a un certo punto quando ti dicono puoi uscire ecco che ma a questo proposito Locatelli l'Italia al momento è tutta zona bianca è possibile che ritorino le zone gialle il coprifuoco così andiamo dritti dritti su uno degli argomenti che il Consiglio dei Ministri dibatterà allora è chiaro che se i numeri cresceranno in maniera marcatissima e soprattutto se ci sarà poi un impatto sui servizi sanitari inteso come occupazione dei posti letto di area medica o nelle terapie intensive ci sarà una rimodulazione dei profili di rischio se preferiamo dei colori e la discussione e la riflessione della politica esattamente anche su questo tipo di scelta cioè dire la definizione delle soglie sia per i posti letto delle terapie intensive sia delle aree mediche quindi è questo che si sta definendo in queste ore che è uno dei punti di riflessione l'altra cosa in molti dicono non so quali saranno gli effetti del vaccino a lungo termine per questo non mi vaccino cioè una delle delle grandi questioni che spesso non i Novax anche i Nivax dicono cioè non sapendo che è un argomento anche come dire rispetto agli altri cosa succederà fra due anni perché circolava questo video di Luc Montagné falso in cui il premio Nobel diciamo i cui studi sull'HIV gli hanno valso il premio Nobel su quello adesso avrebbe detto che entro due anni chi si è vaccinato morirà naturalmente non è vero non è vero che lo ha detto cioè non lo ha detto però la comunità della rete fa circolare questa ed altre notizie come per esempio che dal 26 di luglio chiude tutto un'altra volta non è vero ma sono notizie completamente false e ripeto l'approvazione dei vaccini per quanto per quel che riguarda SARS-CoV-2 sia avvenuta con dei tempi decisamente a sei contratti non ha saltato nessuno degli step intesi a determinare il profilo di sicurezza la controosservazione peraltro è ma noi che cosa sappiamo degli effetti a lungo termine di chi si è infettato con il nuovo coronavirus e ha sviluppato malattia quando siamo all'anno zero non sappiamo mai niente di nulla c'è sempre un paziente zero anche per gli effetti a lungo termine però non dimentichiamo che i vaccini hanno cambiato la storia di un numero straordinario di malattie noi abbiamo eradicato il vaiolo grazie ai vaccini noi non vediamo più bambini però non c'era internet ecco infatti scusi la battuta va fatta per quello dicevo va fatta informazione ed educazione e con i giovani bisogna parlare e dialogare e forse con il loro linguaggio professore perché la scienza ha le sue ragioni ma non è capace di arrivare dove deve arrivare cioè mancano delle campagne efficaci che parlino la lingua nei luoghi dove i ragazzi si trovano difficilmente vedranno un talk come questo diciamo gli adolescenti a quest'ora forse sono fuori con gli amici quindi rischiamo un po' di parlarci fra di noi questo voglio dire che ci sia la necessità anche di essere più incisivi nei messaggi trasmessi ai giovani sono assolutamente d'accordo con lei però va trasferita informazione va fatta cultura scientifica va permeato questo paese della cultura delle vaccinazioni allora io tra un po' vorrei chiedere una questione sul tema dei tassi dei posti letto perché tu hai toccato giustamente Davide la questione zona bianca zona gialla e il terrore di tutti quelli che sono partiti o stanno per partire per le isole per esempio è che Sardegna e Sicilia tornino per dire Sardegna Sicilia poi tutte le isole italiane le coste l'Italia è tutta una meta di vacanza che tornino ad avere delle restrizioni e c'è un piccolo escamotage che è quello del parametro e in generale nei reparti da cui dipende la colorazione la sorte della regione e credo se non capisco male a pensare male diciamo si fa peccato ma non si sbaglia credo che sia questa un po' la questione in cui ruota intorno il consiglio dei ministri e il rinvio perché questi parametri decidere se deve essere il 5% di posti letto in terapia intensiva o il 10% cambia parecchio a determinare se scatta la zona gialla o no è questo che succede è una decisione da assumere in maniera attente dopo ponderate valutazioni quindi ci vogliono almeno due giorni capito David non è basta ma è una dimostrazione di tutta l'attenzione che si presta a scelte così importanti perché è evidente che nessuno vuole chiudere nulla soprattutto in un momento importante come è l'estate ma non è un po' un tronco gestita una ripresa di curva epidemica professore non è un po' un trucco quello di alzare la soglia è come dire no sono valutazioni da fare e analisi da condurre con attenzione non è questione di trucchi secondo lei va fatto un green pass diverso per chi ha fatto banalmente una dose e per chi ne ha fatte due perché diciamo chi fa una dose in genere si immagina che farà ovviamente anche la seconda no cioè nel 90% dei casi è così è difficile che uno a un certo punto diga no la seconda non la faccio però questo può diventare un problema cioè chi ha fatto una dose sola rischia di rimanere appeso però ricordiamoci che la protezione che conferisce una sola dose è inferiore rispetto alla protezione che conferiscono le due dosi quindi un ciclo vaccinale è completo vogliamo andare su un esempio concreto due dosi proteggono dallo sviluppo di patologia grave tale da richiedere un ricovero nelle terapie intensive addirittura fatale largamente superiore al 97% una sola dose dà una protezione di una ventina di punti quindi che l'impasto dopo la seconda mi pare di capire l'indicazione che da lei fornisce e rispetto alle varianti noi andiamo verso la terza la quarta dose ci sarà un continuerà? no noi non possiamo in questo momento dire se ci sarà bisogno di fare una terza dose perché non sappiamo quanto dura la protezione conferita dalla vaccinazione come facciamo scusa non ho capito questa cosa non la sapevo non sappiamo quanto dura non sappiamo quanto dura perché abbiamo iniziato a vaccinare se ci riflette da sette mesi col trascorrere del tempo aiuto e vedendo quella che sarà la durata della protezione la canzone come era lo scopriremo solo vivendo comunque adesso ho un po' paura questo diceva la puoi cantare tutta perché la scienza può dare le risposte quando hai i dati su cui fondare queste risposte però questa cosa è molto interessante io mi sono vaccinata 100% e mi sento molto tranquilla anch'io ma fino a quanto noi abbiamo già dei dati che ci raccontano che fino ai nove mesi dura la protezione conferita dalle vaccinazioni potrebbe anche durare per un periodo significativamente più lungo ecco perché è assolutamente prematuro parlare di terza dose non sappiamo se è necessario e quando sarà necessario sappiamo che può essere indicato invece nei pazienti immunodepressi quindi meno capaci di montare una risposta immunitaria contro il nuovo coronavirus perché a loro può conferire protezione addizionale però nove mesi non sono tantissimi io l'ho già fatto da un paio di mesi il vaccino e quindi me ne mancano sette questo vuol dire che entro sette mesi noi sapremo quanto dura la copertura altrimenti io resto scoperta noi accumuleremo progressivamente dati che verranno analizzati interpretati noi sappiamo che fino ai nove mesi arriva ma mi ripeto potrebbe durare anche di più allora Locatelli rimanga qui abbiamo un altro grande ospite che tra poco si siederà al suo fianco è un grande scrittore italiano Sandro Veronesi che ha vinto l'anno scorso il premio strega con il mitico Colibri da cui oggi viene addirittura fatto e tratto un film buonasera Veronesi mentre lei si accomoda in studio noi con Chiara Proietti D'Ambra andiamo a vedere questo bellissimo servizio che ci racconta la storia di una persona che dice candidamente anche forse giustamente ho paura del vaccino e chiedo rispetto una posizione che abbiamo più volte evocato Chiara Proietti D'Ambra buongiorno buongiorno Chiara piacere benvenuta nel Mugello è stata una delle privilegiate del lockdown è un giardino enorme mi chiamo Gisela Alessandra sono una mamma in questo momento a tempo pieno io sarò una di quelle persone che non farà il vaccino anti-covid in quest'anno e mezzo siamo stati chiamati comunque a fare anche la nostra parte ci troviamo di fronte a un'emergenza sanitaria quindi non si nega nel virus nei morti nei malati c'è un'emergenza in Italia c'è una problematica sanitaria tu non l'hai mai messa in dubbio no assolutamente ha impressionato vedere un anno fa le immagini delle terapie intensive con i corpi delle persone io penso alle famiglie devastate cioè io sono stata fortunata che fino ad oggi io non ho avuto una perdita a causa del covid chi non si vaccina è accusato di egoismo rispetto alla collettività io non mi sento egoista perché io assumo quel farmaco eventualmente per non ammalarsi quindi vedo anche un po' di ipocrisia in questa cosa cioè chi si sta vaccinando non è tanto per farlo per gli altri ha paura di finire intubato secondo me in primis ma questa è la paura umana e quindi è una questione che io assumo un farmaco per non dico salvare me stesso per proteggere me stesso poi questo farmaco potrebbe anche diciamo riflettersi sulla comunità io ho i miei dubbi perché appunto ha sempre lo solito discorso post inoculazione il governo sta facendo i controlli seriologici è innegabile che sia un farmaco sperimentale secondo me in questo momento rischio di meno a prendere la patologia che a fare il vaccino ci sono i si vax i no vax tu ti vedi come ni vax sono quella che guarda in mezzo la guerra fra i due e dice ma anche no ma c'è qualcosa che ti potrà far cambiare idea che deciderà di vaccinarti allora intanto saluto Sandro Veronesi benvenuto Sandro grazie di essere qui è veramente un grande piacere e torno dal professor Locatelli abbiamo voluto professore prendere questa testimonianza perché davvero sono da un paio di settimane si moltiplicano le lettere che arrivano in redazione a me personalmente nei nostri social moltissime persone con un'istruzione superiore con una consapevolezza diciamo abbastanza abbastanza radicata medici ingegneri l'insegnante di filosofia di tuo figlio la madre del compagno di della squadra di calcetto che hanno una posizione non saprei come definirla scettica e che non si convincono non si convincono ma non sono una setta non sono non sono convinti non sono quelli delle scie chimiche che ci stanno inoculando i chip sotto pelle che chissà cosa c'è c'è muta il DNA no non sono quelli sono persone che non si fidano e che dicono io preferisco ammalarmi che rischiare di sapere rischiare di vaccinarmi con qualcosa che non so cos'è vi è un problema di paura della cura che motiva certamente la necessità di una cura della paura ah che bello paura della cura che motiva fa letteratura anche lei quando non è a questo punto lui la fa straordinariamente bene la paura è un qualcosa che fa parte della natura di ognuno di noi e sicuramente deve essere rispettata e deve incentivare il dialogo un medico un sanitario ha il dovere di affrontare le paure le ansie le inquietudini le incertezze i dubbi e lo si può fare solo spendendosi nel dialogo Sandro Veronesi in materia di libertà perché questo poi diciamo chi oggi non si vuole vaccinare dice io voglio disporre liberamente del mio corpo e quindi voglio che non ho nessuna intenzione di farmi il vaccino ora il tema della libertà però cozza anche con quella che è il viver civile cioè il vivere all'interno di una comunità come si corrigono questi due visto che tu hai scritto nel libro di chi osare questo profondo diciamo questa domanda così interessante con un passaggio del colibri in una pagina finale del libro Sandro Veronesi scrive essendo la libertà ormai stata trasformata in un concetto ostile digrignante e imperdonabilmente plurale le libertà le infinite libertà come la zebra viene smembrata eccetera eccetera libertà di scegliere ciò che si preferisce libertà di ricusare ogni autorità libertà di non sottomettersi alle leggi sgradite di non rispettare i valori la tradizione le istruzioni gli accordi presi in passato libertà di non arrendersi di insorgere e addirittura più avanti libertà di non curare affatto e non vaccinare le libertà femminile plurale è una libertà quella di non vaccinarsi Sandro? allora il problema rimane anche se eliminiamo questa parola il problema c'è abbiamo visto quella signora non ha parlato di libertà ha parlato di scelta e quindi il problema rimane però adesso molti sventolano questo vessillo della libertà anzi delle svariate libertà che verrebbero da un provvedimento del governo o da una decisione del comitato tecnico scientifico violate e allora viene in mente ma quelli che sono morti per la libertà meglio che loro quelli che scrivevano le lettere i condannati a morte della resistenza abbiamo in casa questo libro in molti quelli lì intendevano questa libertà qua quando sono andati a morire intendevano cioè hanno dato la vita per garantire a queste persone la libertà di non vaccinarsi e di non curare i propri figli e eventualmente anche di in questo modo nuocere alla collettività non permettendoli ingenerarsi ormai l'abbiamo capito ne parlo pure io sebbene non sono titolato della famosa immunità di gregge era quello cioè la libertà è una sappiamo tutti di che si parla e ce lo dicono i morti noi interroghiamo i morti milioni di morti per la libertà e tutti ci ripetono sempre la stessa cosa e in quello per cui sono morti non è previsto la libertà di dire negro quando la nostra civiltà ormai ha superato questo termine perché ha capito che questo termine è offensivo di per sé anche se tu non vuoi offendere quindi non sei libero naturalmente non è libero la libertà è nella consapevolezza no voglio fare questa domanda al professor Locatelli perché questa cosa della paura della cura che motiva la cura della paura è la cura della paura il tema però rispetto a questa osservazione di Sandro Veronesi professore cioè che cosa è successo quando è successo che la libertà sia trasformata in arbitrio non è possibile che si sia molto affievolito il senso di comunità in questi anni e la come dire l'individualismo no il mettere davanti l'io padrone è casa mia vengo prima io diciamo conta quello che mi riguarda e non conta quello che ci riguarda aver sostituito io a noi per tanti e tanti e tanti anni ha logorato un senso di comunità che prevede che prima venga l'interesse collettivo e solo dentro la cura collettiva esista l'interesse e la cura individuale questo che nella mia infanzia per esempio era ovvio oggi io vedo che si fa moltissima fatica a comunicarlo perché le persone ti rispondono prevalentemente sì ma io sì ma io no e allora lei lavora in un ospedale pediatrico vedrà migliaia anche di famiglie insieme ai suoi pazienti bambini che cosa è successo non glielo chiedo da professionista diciamo del comitato tecnico scientifico ma da uomo che cosa è successo io credo che vada recuperato esattamente questo senso di amore uso volutamente questa parola per l'altro perché vaccinarsi vuol dire ovviamente tutelare prima di tutto se stessi a qualsiasi età e lo sottolineo di nuovo a tinte forti ma poi tutelare anche una collettività riducendo la circolazione virale ma anche facciamo un altro ragionamento che è emerso poche volte forse o non come avrebbe dovuto avere le terapie intensive piene di malati da covid-19 o gli ospedali rimodulati in questo senso ha impattato sugli screening oncologici e noi pagheremo un prezzo questo va chiaramente sottolineato per gli anni si tardive diciamolo più semplicemente che cosa è successo? che gli screening oncologici nei periodi più drammatici hanno avuto una forte riduzione o addirittura una sospensione e noi pagheremo un prezzo indiretto non sono curati i pazienti non abbiamo intercettato precocemente delle diagnosi di cancro che avrebbero potuto essere efficacemente curate questi effetti nefasti però manteniamo questa questione che è centrale e torniamo da Veronesi per questo come ci si rapporta secondo lei Veronesi a questa parte di italiani che proprio non ci sente cioè chi ad esempio è sedotto in qualche modo dalle proposte di Salvini e della Meloni anche legittimamente ecco questa parte di Paese secondo lei come la si conquista? Ma allora innanzitutto io direi che delle regole del gioco bisogna comunque stabilirle io ho letto e non mi sembra che sia stato smentito tra virgolette che stamattina Salvini ha detto non massacriamo i bambini parlando di vaccini ora quella parola è fuori dalle regole non la può usare eppure nessuno lo richiama ad un uso della lingua italiana non vacciniamo massacriamo se passa questa una certa quantità di persone è autorizzatissima dire vabbè avrà esagerato però da per scontato che se lo dice lui lo dice e nessuno gli fa nulla c'è solo lo scrittore lì in televisione che è andato a dire quindi vuol dire che massacriamo si può usare allora io intanto direi che le persone che hanno un peso non solo politico perché sì sei un politico ma c'hai un peso sociale e per quanto possa sembrare strano detto di Salvini culturale ce l'hai e quindi dovresti rispettare delle regole e certe parole non le puoi usare non le usi non perché voglio limitare la tua libertà ma perché ci sono le regole quando c'è il rosso ci si ferma quando per andare a pescare ci vuole la licenza queste cose qua la prima cosa la seconda è che vorrei chiedere anche a questa signora che ha parlato prima non era una fanatica ma che però ha detto non cambierò mai idea quindi insomma una certa decisione c'è lei signora da dove stava parlando da dove parla lei perché se lei parla da dentro una città da dentro una comunità lei sta parlando contro questa comunità questa comunità avrebbe anche il diritto di rivalersi con le cose che lei sta dicendo da dove parlano queste persone dove vi trovate perché abbiamo uno Stato che ce li regala i vaccini non li paghiamo ragazzi ma che scherziamo davvero ma andatela a dire a un ragazzo del Mali o della Somalia che qui regalano i vaccini non li vogliamo andatela a dire a quelli che non ce li avranno mai se non ce li portiamo noi scusa se prendo parte a questa discussione ma Sandro Veronesi sta introducendo un tema che mi sta moltissimo a cuore cioè questo noi adesso vedremo tra poco un servizio sulle vacanze dei ragazzi perché i ragazzi hanno il diritto di andare in vacanza lo abbiamo detto lo abbiamo ripetuto sono stanchi devono andare in campeggio devono andare in discoteca devono poter fare un po' come gli pare come ha risposto il figlio di quel medico di cui le parlavo prima ma nello stesso mare in cui noi diciamo facciamo partire i nostri figli i nipoti per le vacanze meritate nelle isole nelle stesse acque si incrociano altre barche arrivano altri ragazzi da altri mondi e non c'è la stessa attenzione per tutti nello stesso modo voglio dire che il flusso di migranti no dico anche da parte di Salvini che dice non massacrate i ragazzi no non massacrate i ragazzi ma allora questo vale per tutti nessun ragazzo deve essere massacrato tra quelli che solcano le nostre acque invece molti scusate ma non potevo non dirlo affondano nei barconi nel disinteresse assoluto delle stesse persone che si occupano del fatto che i figli raggiungano le vacanze in Sardegna in maniera incolome scusa Sandro Veronesi se ho voluto fare questa però insomma volevo se lei vuole aggiungere qualcosa capisco che è un tema politico sociale non medico però è chiaro che ovviamente tutte le vite vanno protette a maggior ragione le vite più fragili e più esposte non è che un adolescente libico e un adolescente campano siano diversi mi faccio fare un'altra riflessione noi usciremo dal problema della pandemia da Covid-19 solo affrontando globalmente il problema della vaccinazione l'altro grande tema è come riuscire a offrire la possibilità di vaccinazione in paesi che come diceva prima Sandro Veronesi non hanno magari la possibilità proprio di acquisirli i vaccini ed è un problema che i paesi più sviluppati si devono ci state dicendo non voglio brutalizzare il ragionamento con un titolo ma che sostanzialmente i no-vax sono roba da ricchi occidentali questo tema qui dove nasce nasce anche negli Stati Uniti nella classe media americana con le cure alternative e quant'altro cioè il tema del no-vax riguarda l'occidente ricco e opulento che può permettersi come lei giustamente ricordava prima vaccini gratis per tutti e questo l'egoismo non demonizziamoli però perché faremmo l'errore più grande ho capito lei fa il pensiero come l'altro che ci ha ragione faremmo l'errore più grande che possiamo fare vanno forniti gli argomenti per convincere a cambiare la motivazione ripeto la scienza ha mille e una evidenza su perché è importante perseguire una campagna vaccinale però questo è un grandissimo tema è un gigantesco tema perché è di nuovo la comunità io noi l'Italia il mondo è di nuovo la foto piccola la foto grande la foto piccola prevede qual è il mio interesse la foto più grande prevede l'interesse di questo studio della città qual è l'interesse dell'Italia dell'Europa e poi c'è il mondo se non si vaccinano le popolazioni del resto del mondo questa catena non finisce allora è molto interessante questo che lei dice perché ci vorrebbe un governo mondiale che non c'è però facciamo già fatica con quello nostro ci vorrebbe una strategia assolutamente condivisa per affrontare questo tema ci vuole una strategia condivisa per affrontare questo tema prima di tutto per ragioni evidentemente etico-morali ma poi diciamolo anche questo chiaramente anche per il nostro interesse perché se no il rischio è che poi abbiamo di ritorno delle varianti che vengono a selezionarsi per la circolazione virale che possono metterci in difficoltà Certo ora io è evidente si chiama pandemia quindi quando l'hai eradicato o in qualche modo fatto scomparire dall'Europa ricca che si può permettere i vaccini e anche magari di perdere un po' di tempo a convincere una quota significativa dei perplessi a vaccinarsi poi c'è il resto del mondo e adesso non è più come ai tempi della spagnola o della peste la gente prende gli aerei non è detto che debbano tutti arrivare dall'Africa con i barconi e affogare c'è gente che prende l'aereo e c'è gente che lavora in tre continenti e deve lavorare in tre continenti non l'ha fatto così per il divertimento allora finché non si è eliminato dappertutto il pericolo continua a esserci non ci sono dubbi su questo quindi andrebbero sentiti anche quei popoli lì andrebbero sentite anche quelle persone lì se sono così d'accordo sì che però sono queste persone qui queste della foto dietro a te cioè queste persone che noi non riusciamo ad accogliere e alle quali non riusciamo ad assicurare la sopravvivenza quindi figurati ma guardate la sopravvivenza noi della garantiamo comunque in confronto da dove vengono loro è che c'è in atto anche lì una parte della popolazione guidata da una parte dei politici è in atto una persecuzione diciamo una persecuzione non soltanto verbale nei confronti di chi viene qua e fa quello che cent'anni o centocinquant'anni fa facevamo noi gli italiani sono emigrati dappertutto e abbiamo racconti di persecuzioni subite dalle comunità italiane però non perché centocinquant'anni fa eravamo noi quelli che venivano portavano le malattie la criminalità eccetera eccetera e poi abbiamo fatto anche la ricchezza di quei paesi però quello che mi sembra francamente insomma difficile da da dire per uno come me ma anche innegabile è che è mancata in questa circostanza la leadership degli Stati Uniti d'America perché quando c'è un'emergenza di questo tipo uno pensa subito all'America c'è stata anche lei professore pensa all'America beh insomma c'è sempre stata l'America di mezzo a a a distribuire gli aiuti qui invece avevamo avevamo il campione dei populisti e lo stanno pagando ancora no? lo pagano vedo che sorride perché quindi forse anche penso che sia materia su cui ama esprimersi ma forse un pensiero su questo lei ce l'ha un pensiero che chiaramente serve una strategia di visione globale lei prima parlava di capacità di emanciparsi dalla microsfera del singolo per vedere l'intero mondo esattamente quello che serve nell'interesse di tutti quindi sì grazie io volevo chiedere a tutti quanti voi te lo so perché me lo dici tutti i giorni se avete avuto difficoltà con i vostri familiari i tuoi figli li hai convinti facilmente a parte che o lo hanno fatto da soli uno sta in Inghilterra e si è vaccinato là uno ha fatto una dose l'altro ancora non gliel'hanno fatta la dose perché in Toscana sono un pochino più lentini però sono tutti dell'idea di vaccinarsi non l'hanno neanche preso in considerazione ecco volevo sapere se ci sono state discussioni hai sperimentato quella diciamo triste condizione di dover discutere con i figli questa cosa dell'ascolto e del dialogo che condivido per fortuna non ho dovuto metterla in pratica dentro la famiglia dove diventa ancora più complicato e lei professore ha no fortunatamente non ho assolutamente avuto problemi non ha avuto fuoco amico non c'è stato fuoco non ho avuto fuoco amico grazie al professor Locatelli per essere stato con noi e speriamo di riaverla presto come concita ricorda sempre io mia figlia tra poco verrà vaccinata e non c'è nessuna discussione possibile però questo purtroppo ti voglio dare questa notizia David non convincerà quella signora è perché radicarsi nella propria posizione radica gli schieramenti però col semaforo rosso non si passa se vai in macchina ti devi mettere la cintura se vai in motorino ti metti in casco se vai a scuola ti devi vaccinare ma è una responsabilità politica non è che se tu vaccini tua figlia quella signora vaccina la sua questo lo so bisogna che il governo dica tutti vaccinate i vostri figli grazie va tenuto aperto il dialogo perché quella signora va chiaramente spiegato che i rischi che corre infettandosi sono enormemente superiori per la sua salute speriamo che l'abbiamo vaccinata infatti lei ha detto non ho avuto nessun malato in famiglia forse diciamo no è l'esperienza diretta che insegna chi ha avuto invece una malattia o un lutto in famiglia difficilmente corre il rischio questo diciamo penso allora abbiamo Senaldi direttore di Libero e Candida Morvillo pronti per quest'altra parte di trasmissione e intanto andiamo con Carlo Marsili a vedere un giorno in Sardegna con i famosi ragazzi in vacanza grazie grazie io sono del parere prima di vaccino meglio cioè nel senso uno è vaccinato è immune e va per le cose che ho sentito magari mi hanno spaventato un po' volevo vedere un pochettino come come andava per le altre persone a Dolbia cuore turistico della Sardegna i più confusi sul vaccino sembrano essere proprio i più giovani io ho 24 anni e i colleghi che ho io nessuno che io sappia se l'è fatto cioè le persone più vicine a me non si sono manco prenotate il vaccino mi spavento paura molti mi dicono vabbè sono giovane non mi fa niente io le persone che ho sentito in questo periodo molte mi parlano appunto dell'Inghilterra che eh vedi l'Inghilterra l'hanno fatto ma la situazione è sempre la stessa quindi uno alla fine smette di crederci anche un po' questa invece è San Teodoro la chiamano la Rimini della Sardegna uno dei paesi più affollati nelle stati della costa orientale l'ho prenotato il vaccino l'ho prenotato l'ho saltato perché sono dovuta partire prima per venire qua sì per vacanza sì 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 il vaccino la seconda dose mi ha dato che ero in ferie ferie programmate da l'incirca sei mesi siccome lavoro tutto l'anno e quindi non ho fatto altro che chiamare il numero verde farlo posticipare di tre giorni perché comunque io non mi voglio neanche privare di uscire non voglio privarmi di fare qualsiasi cosa ok io sono preoccupata di sta cosa nel senso che magari tanta gente preferisce farsi tipo le vacanze senza vaccinarsi e secondo me se facevano il green pass fin da subito magari i contagi non aumentavano la seconda non la potevo fare che partivo poi in Calabria per vacanze sì 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 quindi tu non rinunci alle tue vacanze no no direi di no io dite voi al mio datore di lavoro di farmi cambiare il periodo di ferie siccome siamo in due in un ufficio a gestire un'azienda di autodipendenti non potevo fare altrimenti o non andavo in ferie però le ferie siccome c'ho una settimana all'anno c'ho due non me ne volevo privare allora di nuovo in diretta con il direttore di Libero Senaldi con Candida Morvillo Sando Veronesi è rimasto con noi in studio e allora Senaldi ripartiamo da lei sono ancora 2,4 milioni gli ultra sessantenni che si tengono lontani dal vaccino quando parliamo di responsabilità dei ragazzi parliamo di un aspetto del problema poi c'è alle volte la irresponsabilità degli adulti però però questi numeri qui parlano molto chiaro cioè gli over 60 non immunizzati sono una cifra enorme e questo è il problema italiano oggi Senza dubbio io credo che uno dei motivi per cui il covid stia rialzando la testa sia il fatto che abbiamo troppo e poche persone vaccinate ora sappiamo che il covid adesso sta girando molto di più fra i giovani in realtà che fra gli ultra sessantenni però è anche vero che i sessantenni sono diciamo le fasce a rischio mentre i giovani non sono a rischio però fanno girare il covid perché poi hanno anche più frequentazioni più contatti questo è un dato di fatto c'è una percentuale di italiani troppo alta non vaccinata e questo agevola il ritorno del covid in una forma importante anche se bisogna dire che il covid poi è tornato anche in Inghilterra dove c'è una grande fascia di popolazione vaccinata cioè gli inglesi si sono vaccinati non se ne è mai andato il covid c'è sempre stato è tornato in numeri importanti è tornato in numeri importanti anche in Inghilterra dove pure si sono vaccinati più di noi però certamente il mio punto di vista è che tutti si dovrebbero vaccinare però è molto difficile farlo perché c'è stato ma sarebbe bene persuadere senza obbligo secondo me questa è una decisione politica l'obbligo però io credo che sia utile vaccinarsi beh quello ci mancherebbe prima di sentire Candida Morvillo io volevo chiedere a Sandro Veronesi un commento su questo servizio che abbiamo visto i ragazzi perché il dato dei immunizzati 12-19 anni soltanto il 10,24% cioè pochissimi e allora che cosa dicono i ragazzi molto semplicemente noi è difficile che si muoia di questo virus non ci facciamo il vaccino anche se ci ammaliamo non ci succede niente o poco perché non si vaccinano i vecchi se si vaccinassero i vecchi noi ci potremmo anche ammalare tranquillamente torneremo a casa non contagieremo nessuno o troveremo è un ragionamento che poi mi sembra sia la base di quello che dice Salvini non ti sfugge che si sta discutendo di abbassare l'età del voto al Senato per i senatori ai 18 anni quindi diciamo c'è un fatto politico anche molto interessante che si cominci a parlare non solo dei giovani ma ai giovani perché c'è una proposta di legge per abbassare il diritto di voto ai 18 anni anche per il Senato in vigilia di campagna elettorale non so la butto lì la prima cosa che mi è venuta in mente è che nessuno di quei ragazzi che è stato intervistato è studente di medicina perché basta il primo anno di medicina per togliergli la voglia di dire non ci credo più quando è un sistema abbastanza complesso ma abbiamo anche imparato a leggerlo non è una cosa alla quale si crede o non si crede sono dei numeri e i numeri vanno comparati con altri numeri io sono molto sorpreso dal fatto che sembra essersi sospesa una cosa che ha portato avanti non solo il genere umano ma la terra cioè questo istinto di sopravvivenza questi ragazzi fanno esatto contrario di quello che dovrebbero fare egoisticamente egoisticamente dovrebbero dire io voglio girare tutta l'estate voglio andare a divertirmi mi vaccino e poi vado a divertirmi invece no allora mi viene in mente se ho un momento perché mi torna in mente una cosa abbastanza sconvolgente che ho visto quando ero militare facevo il pompiere e fui mandato insieme al pompiere Berni professionista con una camionetta a proteggere un in un grande incendio di bosco vicino Firenze un campeggio c'erano delle roulotte e quindi noi eravamo lì se arrivava il fuoco troppo vicino bagnavamo eccetera abbiamo passato due giorni e due nottili e io ho visto una cosa che il pompiere Berni mi ha fatto vedere perché lui l'aveva già vista era giovane era Berni di cognome era Berni ed era più giovane di me però era 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 un pompiere mi dice guarda le vedi quelle ombre lì e si vedevano delle ombre erano i fagiani che si alzavano dal bosco perché la temperatura si era fatta troppo alta e quindi e quindi se ne andavano da dove si trovavano però invece di fuggire il fuoco dice quelli perché sono fagiani e non a caso è un po' sinonimo di stupido questi ci vanno verso il fuoco stai a vedere adesso pum sparava con la mano e i fagiani caschiavano nel fuoco infatti in Toscana si dice sei un fagiano esatto sei un fagiano per dire non vedo la realtà mi sembra di capire che si sta facendo un po' come questi fagiani cioè invece di fuggirlo il fuoco ci si butta dentro candida Morvillo ovviamente il popiere Bernie non è frutto della fantasia di Veronese ma in questo caso è davvero un personaggio realmente esistito immagino però è interessante la storia cioè a questi ragazzi che il giovane per definizione si sente invincibile probabilmente è una delle caratteristiche della gioventù dell'idea bella di poter fare qualunque cosa e poter superare ogni limite a questi giovani però che cosa come dire vanno convinti sì siamo d'accordo la parola obbligo qui in questo studio nessuno tranne il sottoscritto la vuole pronunciare però anche per loro se non ci fosse non ci sarà l'obbligo se non ci fosse l'obbligo ma vanno sicuramente vanno convinti e sicuramente hanno bisogno di capire di più di questo virus perché quando vedi gli assembramenti di giovani della Movida o gli assembramenti di giovani e i festeggiamenti degli europei capisci che gli mancano due fondamentali su come si diffonde il virus perché quando per esempio vedi le tavolate di questi giovani adesso in vacanza ecco nessuno gli ha spiegato che se urli a tavola le famose droplets vanno ben oltre il metro magari arrivano al tavolo successivo però questo loro sembrano non saperlo quindi vanno prima di tutto informati bisogna informarli e fare in modo che capiscano che insomma il covid non sono solo due regolette tipo il metro di distanza perché c'è anche una variante che insomma impone delle regole diverse e poi l'altra cosa ecco questo senso di invincibilità loro se lo sentono non è sempre vero purtroppo ci sono delle eccezioni quando anche i giovani vanno incontro al virus e come ricordano i virologi noi sappiamo ancora veramente molto poco sulle conseguenze a lungo termine del covid sappiamo che però anche i giovani soffrono del cosiddetto long covid e quindi di sintomi per molto tempo e per molte settimane quindi io credo che questi ragazzi così desiderosi di fare la periscena le vacanze ma anche giustamente perché sono stati chiusi in casa tanti mesi hanno fatto la dad molti di loro ecco però forse se capissero che rischiano di stare male per molti mesi ecco forse sarebbero più attenti nelle regole di comportamento e si farebbero due domande in più rispetto all'opportunità o meno di vaccinarsi allora io vorrei chiedere a Sandro Veronesi se secondo te non lo sanno o non gliene importa niente perché è un po' come dire fumare fa male non lo sanno sì lo sanno ma fumano drogarsi fa drogarsi poi mi sembra di parlare come mia nonna sono parole che non usa più nessuno fa male sì ma è un deterrente sapere che ti fa male ma ho il casco scusa pensa al casco sì ma non è un deterrente la mia idea la mia opinione è che non è un deterrente sapere che una cosa ti fa male per smettere di farla a quell'età sono altre però con l'imposizione del casco sono diminuiti gli incidenti vabbè adesso non dobbiamo discutere di te c'è un ospite no no fa chi certo ma io gli ho capito anche a Veronesi ho capito che la tua posizione è questa e anche lui è d'accordo con me perché i tuoi figli sono ancora piccoli quando saranno grandi e tu non potrai più obbligarli dovrai arrenderti che ha l'evidenza che il deterrente della punizione e del male che gli fa non è sufficiente guarda il medico che dice al figlio infatti il vaccino il figlio gli dice faccio un po' come mi pare gli avrà spiegato suo padre me lo auguro e invece però non basta scusa no dicevo che secondo me è sbagliato dire giovani perché innanzitutto sono guidati anche loro da delle persone che hanno il doppio dei loro anni che sono ancora giovani perché se hai 40 anni sei ancora giovane però ce n'è il doppio rispetto a un ventenne che dicono cose molto seducenti cioè voi non vi ammalate lasciamogli in pace questi ragazzi facciamogli diventire sono stati sacrificati eccetera che è una cosa antiscientifica gli viene detta una cosa antiscientifica gli viene detto che i somari volano o che Cristo è morto dal sonno come diceva mia nonna e questi ci credono ma non è che sono stupidi loro no sono loro i fagiani si comportano come fagiani per la semplice ragione che c'è qualcuno che li spinge a farlo e fumano ma fumano anche i loro genitori fumano anche i medici ho quasi avuto il dubbio a vedere come parlava la voce che quella signora non vorrei dire ma fuma allora se fumi e poi non ti fai il vaccino perché hai paura delle conseguenze sei in una contraddizione immensa e per farti uscire da questa contraddizione secondo me c'è soltanto uno shock aveva ragione Locatelli prima a dire che la paura che è prolungata nel tempo produce produce dei danni è del tutto naturale perché da un giorno all'altro a noi ci hanno chiesto di comportarci come dei fobici qui c'è scritto per entrare lavarsi le mani dieci volte ma questo lo facevano i fobici prima adesso lo dobbiamo fare tutti quando entri in quel campo lì va bene ritornare nel campo da cui venivi e eliminarle quelle paure che ti hanno messo giustamente ti devi lavare le mani per paura di contraddizione non è facile e le paure quando si innesca il meccanismo fobico ognuno va nella sua direzione perché c'è qualcosa dentro di lui che d'altra parte sia dentro sia fuori il covid l'abbiamo visto cosa fa ti colpisce dove sei già debole ci sono persone che muoiono di cuore perché sono deboli di cuore ci sono persone che muoiono di polmoni perché e anche le conseguenze il long covid come diceva Candida Morvillo ti vanno a colpire dove sei già debole anche psicologicamente e quindi questa faccenda di dialogare con la paura delle persone bisogna tenere conto però che questa paura l'abbiamo innescata con queste prescrizioni di tenere comportamenti fobici il vaccino ti permette di allentare su questi comportamenti fobici e medievali e non lo vogliono fare è questa la cosa che veramente è straordinaria cioè noi non vogliamo uscire da questa emergenza non vogliamo uscire facciamo vedere a Senaldi e a tutti gli altri questa sortita di Matteo Salvini sul vaccino libero vediamo è altrettanto dimostrato non da Matteo Salvini o da Zingaretti per fortuna ma dai comitati tecnici scientifici tedesco britannico olandese belga irlandese che parlare di obbligo vaccinale per i ragazzi e i minorenni è una follia Zingaretti studia prima di parlare studia leggi non i programmi di partito leggi il fatto che in Gran Bretagna e in Germania è consigliato il vaccino sotto i 18 anni solo in presenza di altre gravi patologie punto il vaccino è assolutamente fondamentale e salva vita per la popolazione anziana deve essere una libera scelta per i nostri figli e i nostri nipoti allora io scusami David perché su questa cosa veramente mi parte come direbbe caro figlio mi sale il crimine cioè mi parte l'embolo perché deve essere una libera scelta per i nostri figli io mi domando e torno a domandare a Sandro Veronesi come mai tutti i nostri figli non sono liberi delle medesime scelte cioè come è possibile che Salvini pensi che i figli i nostri i suoi i miei e i tuoi debbano essere liberi di prendere il targhetto per la Sardegna e non presti la medesima attenzione e cura a ragazzi che non sono liberi nemmeno di sopravvivere o di campare cioè come può come diciamo dal punto di vista logico un messaggio anche elettorale come può essere così contraddittorio ma infatti il problema è questo anche lì gliela faccio anche a lui la domanda da dove sta parlando Salvini perché adesso Senaldi parlerà c'è scritto libero dietro lui parla dall'ufficio della direzione di un giornale lui parla da lì parla e lo sappiamo non glielo chiedo nemmeno perché lo so ma Salvini da dove lui non era mica a fare un comizio in quel momento da dove stava parlando e che supporti scientifici aveva per dire quelle cose e perché non li ha citati visto che gli studi sembrava di sentire questi imbonitori che però cercano di vendere un tappeto o un livellare a carta viciole qui parlando del segretario di un partito di governo insomma lui citava altri comitati tecnici scientifici io non sono d'accordo però lui ha detto in altri paesi il comitato di tecnici scientifici hanno preso altre decisioni ma non è questione di decisioni prese o non prese c'è mai il fact checking io non lo so per esempio a quali paesi si riferisca genericamente a quali cioè bisognerebbe che ci fosse uno accanto che sempre ma se un 17 non è libero di fare niente perché è minorenne perché dovrebbe essere libero di decidere se vaccinarsi o no bisognerà pur prendersi cura delle persone che non hanno ancora il diritto di autodeterminarsi bisognerà pur prendersene noi però Senaldi allora così facciamo un passo avanti avendo sedito Salvini e la questione politica di fondo è che su un tema importante e divisivo come vediamo anche in questo studio come questo l'unità delle forze politiche sarebbe determinante cioè se io governo devo convincere i cittadini italiani che sono divisi come lo siamo in questo studio con i nostri dubbi magari le nostre certezze le perplessità tu devi avere un governo che su questo non dico dica tutta la stessa cosa però che in qualche modo dà un indirizzo unitario questo dovrebbe essere determinante no? Sì questo è determinante però permettimi di ricordarti che in termini di vaccinazione noi abbiamo un commissario di nomina del premier e quindi secondo me questo significa che una cosa buona aveva Conte che ci metteva la faccia e parlava lui e allora secondo me siccome noi abbiamo un premier abbiamo un commissario straordinario alla pandemia e dovrebbero metterci la faccia loro e parlare loro e zittire tutti i politici perché a me non è piaciuta la rissa sui giovani fra Salvini e Zingaretti non è piaciuta da una parte non è piaciuta dall'altra poi io ho intervistato tutti i più grandi scienziati italiani del virus ho la mia idea ma è inutile che la esponga non essendo io uno scienziato posso dire che la cosa più interessante invece giornalisticamente che ho sentito una delle più interessanti in questo anno e mezzo di virus l'ha detta Veronesi adesso quando ha detto quando tu terrorizzi una popolazione per un anno non puoi aspettarti dei comportamenti razionali ora l'uomo non è un essere razionale già quando è tranquillo quando tu lo bombardi da un anno e mezzo figurarsi andiamo da Candida Morvillo Candida è una questione diciamo la foto piccola la foto grande noi siamo qui adesso a parlare dei ragazzi i diritti l'occidente opulento mi ricordo sempre quando tu dicevi poco fa i Novax sono un lusso da occidente opulento c'è stato un momento in cui si diceva anche la psicanalisi è un lusso da ricchi cioè ci sono certi tipi di disturbi e certi tipi di cure che sono considerati lusso da ricchi vediamo vediamo la foto più grande dal tuo punto di vista che cos'è che manca cioè cosa ci manca qual è il pezzo di comprensione che manca per vedere la scena grande poi da qui vorrei parlare un momento anche del fatto che oggi è la ricorrenza il ventennale di Piazza Limonda vent'anni fa eravamo a Genova e quelli sono stati profetici rispetto al presente ma ne parliamo fra un attimo la foto grande Candida la foto grande per vedere la foto grande dobbiamo uscire dalla polemica politica piccola dalle immagini di Salvini che dice non voglio vedere mio figlio diciottenne rincorso da una siringa e da Zingaretti che risponde beh così è come se invitassimo i diciottenni in guerra a disertare qui siamo appunto alla campagna elettorale all'accaparramento dei voti dei diciottenni ma la foto grande insomma prende un arco di tempo un po' più vasto perché per esempio ricominceranno le scuole perché fra poco potrebbero riaprire le discoteche e i ragazzi giovani potrebbero anche essere magari sono anche liberi di non vaccinarsi però se liberi di non vaccinarsi non dovrebbero essere liberi di ballare e saltare nelle discoteche come l'anno scorso con tutto quello che abbiamo con le conseguenze che abbiamo visto o di assembrarsi come non so sui mezzi pubblici nelle scuole fuori dalle scuole con una variante di covid che è diciamo decisamente più infettiva rispetto più infetta rispetto alla precedente quindi insomma la foto grande deve guardare deve guardare secondo me su un arco temporale più basso sulle variabili in corso e sul fatto che siamo al 20 di luglio cioè se questi giovani devono vaccinarsi prima di andare non dico adesso in discoteca ma a scuola a settembre ecco almeno in Lombardia servono 5 settimane fra una dose e l'altra quindi al di là della polemica di giornata sarebbe il caso che qualcuno facesse chi può decidere facesse poi delle riflessioni serie e prendesse delle decisioni adesso cominciare adesso a proposito della foto grande sull'arco temporale Sandro Veronesi in piazza Limonda oggi è tornato Manu Ciao dopo 20 anni 20 anni fa le magliette dicevano voi G8 noi 6 miliardi e c'era una generazione la generazione che aveva visto il capodanno del 2000 i suoi 18 anni erano stati il capodanno del 2000 e c'era una generazione che chiedeva esattamente quello che oggi sembra un diritto di tutti oggi abbiamo il ministero della transizione ecologica c'è un ministro ecco quella generazione lì era quella che chiedeva 20 anni fa era quella che chiedeva abbiate cura del pianeta per esempio la terra siamo noi voi siete i grandi della terra noi siamo la terra fa impressione rivedere Manu Ciao sono 20 anni oggi dal giorno in cui in piazza Limonda queste sono le immagini di piazza Limonda è stato ucciso Carlo Giuliani erano le 5 e mezza le 5 e 30 sette del pomeriggio e un carabiniere di leva di 20 anni Mario Placanica ha ucciso un manifestante di 23 Carlo Giuliani e lì è finita una storia è finita questa storia Sandro tu c'eri io c'ero e mi ricordo diciamo giorno per giorno quello che è accaduto scrivevo per il mio giornale tu c'eri che cosa facevi e che cosa ti sembra in prospettiva che sia successo da allora ad oggi io c'ero perché anch'io dovevo scrivere per il mio giornale che è sempre lo stesso di adesso e per esempio ho visto delle cose ho capito quanti capillari ci sono nella testa perché ho visto le manganellate in testa alla gente dentro i cortei pacifici ho visto la polizia attaccare i cortei pacifici e lasciar fare ai black bloc che entravano dentro questi cortei pacifici perché non c'era servizio d'ordine e invece bisognava che ci fosse un servizio d'ordine perché si sapeva queste tutte cose sono passate in cavalleria naturalmente con la morte di Giuliani e con quello che è successo alla Diaz la notte dopo però poi a Monte c'è questo io mi ricordo quando sfilava questo corteo soltanto il partito comunista greco c'aveva i costoloni lì non entravi nel comunista greco non entravi e questo lo dico perché chi ha 20 anni adesso proprio è nato dopo quindi non sa lo dico per questo che sta dicendo Sandro se lo posso interpretare Sandro Veronese sta dicendo come dire non è successo per caso ecco direi non è successo per caso è stato in qualche modo orchestrato ed è andato tutto esattamente come doveva andare secondo un certo punto di vista è questo che dici alla fine però si è parlato dei black bloc si è parlato ovviamente si è parlato si continua a parlare di quello è successo alla Diaz perché è stato un obbrobrio però poi alla fine il tema era quello adesso quel tema sta dentro i ministeri cioè adesso non si discute più su se c'è o no un'emergenza si discute cosa si deve fare se è colpa dell'uomo se è una cosa ineluttabile all'epoca era considerato un argomento tabù perché non lo si voleva affrontare in quelle sedi allora ditemi a cosa servono quelle sedi e questa è un'interessante macchina del tempo perché rispetto a quello che dici io penso ai manifestanti di oggi alle Carole Racchete alle Greta Thunberg ma anche banalmente al G20 a Venezia di qualche giorno fa che ha accolto alcuni di questi temi che i ragazzi di Genova ponevano sì ma penso a chi oggi è considerato diciamo estremista ma chi va a combattere con le donne kurde chi va a combattere cioè comunque vent'anni dopo può capitare non è detto ma può succedere che la storia ti dia ragione penso no? sì e su questo come su altri argomenti secondo me non ci sono dubbi forse non sono 20 gli anni forse sono 30 forse sono 40 però la storia ci insegna che gli americani hanno fatto una guerra civile perché una parte non voleva abolire la schiavitù pensando che con l'abolizione della schiavitù sarebbe finito un mondo l'unica guerra che c'è stata sul suolo americano è stata una guerra civile per quello ora cosa ci voleva a immaginarsi che tra 80 anni 60 anni la schiavitù non può esserci più cosa ci voleva immaginarsi è il famoso senno di poi no? sì ma quelli che combattevano i nordisti lo sapevano cioè alle volte c'è della gente che ha ragione e della gente che ci ha torto e non è detto che la ragione stia a metà no? senti Sandro come sta venendo il film? eh come sta venendo? ma c'è ho visto c'è un cast pazzesco Nanni Moretti che fa lo psicanalista beh diciamo allora il film è tratto dal libro il colibri e in questi giorni lo stanno girando sì ecco qui ci sono delle immagini no? questo è il tuo protagonista è Pierfrancesco Favino e lei Kasia Smutniak sì e poi c'è Berenice Begeot e poi c'è Laura Morante e Benedetta Polcarola ora me ne ricordo perché io non c'entro e c'è uno psicanalista no? c'è uno psicanalista come no? c'è quasi sempre e guarda caso lo fa Nanni Moretti che è la terza volta secondo me che fa uno psicanalista al cinema e ci sarà pure una ragione eh penso di sì grazie San Dio Boccalupo Senaldi e Morvillo rimangono con noi tra poco altra grande ospite è stata una delle protagoniste di queste giornate parleremo del DDL Zan e lo faremo con Barbara Masini parlamentare di Forza Italia che ha colpito tutti noi per un suo vibrante intervento al Senato tra poco bene di nuovo in diretta è con noi sempre il direttore di Libro Senaldi Candida Morvillo e in studio ci ha raggiunto buonasera la senatrice Barbara Masini di Forza Italia buonasera benvenuta benvenuta Barbara Masini erano diversi giorni che l'aspettavamo volevamo molto 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 che lei fosse qui con noi chi è Barbara Masini ha 47 anni non si dice delle signore ma questo dato è pubblico in questo caso perché essendo senatore sì comunque anche se è pubblico non è che uno proprio per forza te lo dico per te per il futuro non è una notazione fondamentale 47 laureata in scienze politiche a Siena quindi Toscana doc eletta consigliere comunale a Pistoia con Forza Italia è arrivata al Senato nel 2018 fa parte della commissione politica dell'Unione Europea e è salita all'onore delle cronache per un intervento molto passionale che ha tenuto al Senato adesso lo ascoltiamo ma posso chiederle di dov'è? lei di dov'è? dove è nata? io sono nata a Pistoia è di Pistoia Pistoiese doc allora Pistoia è una città interessante nella geografia perché noi abbiamo avuto Letta che è a Pisano ieri avevamo avuto Maria Elena Boschi che è a Retina poi c'è il collegio di Siena adesso Pistoia in tutta questa geografia Pistoia tutti i toscani maledetti toscani non ha ancora dato qualcosa di rilevante alla politica nazionale recente fino adesso fino adesso andiamo a vedere questo fino adesso 25 anni in cui l'Italia indietreggia rispetto a posizioni di civiltà presenti negli altri paesi a noi fratelli per cultura e livello democratico dove leggi come queste sono state votate da governi di tutti i colori politici quando capì di me mia madre mi disse ho paura per te tutti i genitori hanno paura per i propri figli per il loro futuro per la loro salute per un incidente per una casualità amara del destino ma non tutti sono costretti ad avere paura per una società immatura che ritiene che tuo figlio o tuo figlio possano o debbano essere un soggetto più vulnerabile per quello che è a voi tutti auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari quelli di oggi e quelli di domani e anche quelli che un domani saranno diversi dai vostri desideri e poter dire loro io nel mio piccolo ti ho protetto dalla paura ringrazio la mia capogruppa Anna Maria Bernini i miei colleghi senatori il mio partito Forza Italia per il rispetto che mi ha sempre dimostrato allora Barbara Masini prima di lasciare la parola a Candida e a Pietro Senaldi io vorrei chiederle questo lei prima di fare politica intanto a che età ha cominciato a fare politica e perché in Forza Italia che cosa l'ha avvicinata a Forza Italia? io ho iniziato a fare politica molto presto in realtà da ragazzina però poi mi sono totalmente allontanata a scuola quindi? sì a scuola a scuola ho avuto il mio periodo quando c'era il proporzionale ero per il maggioritario insomma tutte queste battaglie che poi magari poi nella vita e chi votava? il suo primo voto se lo ricorda? il mio primo voto me lo ricordo bene perché fu motivo di tanta tanta discriminazione all'epoca anche scolastica io votai Lega Nord incredibile la Pistoia sì anticipato i tempi prima che la Lega diventasse molto prima dell'arrivo della Lega Pistoia ero molto affascinata dal processo di macro regioni insomma dal processo federativo di Unitalia perché non c'era la Lega come forza politica diciamo così rilevante in quel momento in Toscana no no di nuovo totalmente nuovo mi piacevano molto il professor Miglio quello che diceva c'era Bossi Miglio certo certo Miglio proprio la Lega della prima 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 ora che poi il professor Miglio fece del proselitismo perché fondò anche la Lega Meridionale mi ricordo che c'erano sì io quando me ne sono andata diciamo di area in area a fondare a trovare le patrie regionale le piccole patrie italiane non tutte se posso dire completamente diciamo cristalline la Lega Meridionale per esempio non fu un esempio però insomma torniamo a Pistoia quindi lei a 18 anni si avvicina alla Lega poi lascia la politica e ci ritorna a 18 anni avvicinarsi alla Lega non fu proprio una passeggiata in Toscana insomma ma la contestarono a casa sua in famiglia no 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 in famiglia non è una famiglia dove si viene contestati però a scuola al liceo liceo insomma classico di Pistoia molto di sinistra professore di sinistra non fu proprio facilissimo e lì iniziarono le mie prime battaglie poi iniziarono anche all'interno della Lega io non me lo ricordo però qualcuno non molto tempo fa mi disse ma ti ricordi ragazzina che ti alzasti in piedi e contestassi bossi io non me lo ricordo però evidentemente è successo poi comunque mi sono allontanata in generale dalla politica perché diciamo ho avuto io sono figlia di genitori separati e il mio patrigno era candidato per la Lega Nord il marito di mia madre e mio padre era candidato contemporaneamente al Senato per il partito radicale anni dopo quindi non essendo una che ama le scelte mi sono proprio allontanata diciamo che si è trovata in una situazione non è mai non ha mai sciato in discesa nella sua vita però sono molto sono molto contenta di avere un babbo che si è candidato al Senato per il partito radicale sinceramente ebbe anche un buon risultato quindi adesso veniamo al Didier Lezzan lei ha portato la sua esperienza personale eccola io senatrice forsista omosessuale sosterrò il Didier Lezzan questa è la sua compagna sarà contenta di essere su tutte le televisioni sarà molto in imbarazzo in questo caso si direbbe che il privato diventa pubblico cioè la sua storia diventa interessante perché è paradigmatica di un'esperienza e quindi è per questo che noi ci stiamo lavorando cioè politicamente ci interessa la questione volevo sentire Senaldi però su questo perché l'intervento della senatrice vale forse più di mille campagne che uno può fare di mille discorsi anche proprio per la sua storia politica personale cioè una persona che nasce nel centro-destra fa questo intervento al senato in cui svela una parte di sé e vale più di qualunque altro tipo di campagna che uno possa fare che impressione ti ha fatto questa storia Senaldi? a me non ha fatto nessuna impressione adesso non vorrei deludere nessuno è una storia personale ognuno ha la sua storia personale a me sembra che nell'intervento non abbia toccato il meriti della legge cioè ci sono tre articoli che sono contestati da gran parte del Parlamento e su questo è lo scontro politico nessuno nega alla senatrice ma nessun italiano il diritto di essere gay di fare tutto quello che vuole della sua vita ma questo mi sembra un po' scontato se poi uno vuole pubblicizzarlo è liberissimo però il punto della legge Zana è altro il punto è se i tre articoli contestati diciamo così sono un progresso della società o come alcuni ritengono spingono indietro la società tutto qui allora la senatrice immagino che avrebbe fatto a meno non mi voglio sostituire la sua però immagino che avrebbe fatto a meno di pubblicizzarlo se non avesse sentito che questo forse dava forza alla sua posizione o non è così perché è come dice lei perché si è esposta mi permetto di dire al direttore Senato ma è un errore questo eh sentiamo perché le leggi sono giuste o sbagliate non è sì sì ma se vuole ne parliamo della legge non è quello però lei non può nemmeno parlare di tre secondi di un mio intervento visto che ho parlato per dieci minuti infatti non avevo nemmeno aria perché fra l'altro vorrei anche dirle che siccome era un debito d'ossigeno sicuramente sarò stata emozionata e commossa però non ho versato valle di lacrime come lei ha titolato insomma cioè io ho visto Masini scoppia in lacrime non ho detto questo invece non ho fatto detto che lei ha versato libero Masini scoppia in lacrime è un po' l'esempio è un po' l'esempio di quello che si fa con la legge ZAN sicuramente ci sono delle cose magari non perfette però tante cose che vengono dette sulla ZAN non ci sono come Masini si è emozionata ma non è scoppiata in lacrime quindi insomma io se poi lei ha sentito tutto il mio intervento mi dice che non sono entrata nel merito della legge ma se vuole ci sentiamo forse non ha sentito tutto l'intervento la senatrice Masini dice che l'indomani dopo il suo intervento sul tuo giornale il titolo era online scoppia in lacrime e quindi la contestazione la fa adesso tu magari non hai il controllo di quello che avviene sul sito perché non è una colpa perché non è anche detto che l'intervento era molto lungo non si limitava 800 titoli adesso guarderò anche quello mi è utile per fare l'esempio di quello che io ho detto sulla legge ZAN io non ho detto che è perfetta non è vero che non ho contestato ho contestato nello specifico l'articolo 4 poi mi sono poi espressa su alcune riviste contestandone anche altre comunque l'intervento l'ho semplicemente fatto notare che è durato 10 minuti quindi credo di aver detto altro oltre a quello che lei mi ha appena contestato ho usato solo una frase della mia vita privata semplicemente per ricollegarla a un concetto che forse lei non ha ascoltato della libertà come prima la libertà dalla paura come prima delle libertà da tutelare poi ci sono tutte le altre libertà io vengo dal partito delle libertà ho pensato che portare l'attenzione sulla libertà dalla paura fosse importante e anche forse la storia radicale di suo padre se mi posso permettere lei ha ragione senatrice però mi consenta ecco lei ha ragione senatrice però mi permetta di dire come giornalista più volte processato per così per espressioni di qualsiasi genere che non sto qui a riportare che a me la legge Zanna fa molta paura perché è tutta la sera che parliamo di paure è tutta la sera che parliamo di paure mi sembra un po' il tema perché attribuisce a un giudice il diritto di dire che una mia frase può aver provocato chissà quali conseguenze senza dimostrarlo vabbè tanto poi ci sarà la forma della giustizia e quindi io francamente sottocormi all'arbitrio dei giudici sentiamo la risposta Senaldi sentiamo la risposta anche adesso esiste una legge che punisce crimini d'odio quindi o lei contesta la legge Mancino vabbè questa è un'altra posizione io la contesto e questa è una posizione legittima è una posizione sua legittima la legge Mancino ha avuto un significato in un determinato periodo storico adesso è completamente sorpassata liberticide che pensa di questo liberticide non mi pare che le aule dei tribunali siano piene di processi per la legge Mancino comunque questa è un'opinione che ovviamente rispetto però rispetto alla ZAN aggiunge fatti specie alla legge Mancino fondamentalmente però è interessante questo scontro questa diversa distribuzione della paura perché Senaldi dice a me la legge fa paura mentre la senatrice Masini dice io non voglio più avere paura cioè vorrei che gli altri non avessero paura allora qua si torna se diamo candida su questo che può essere molto interessante e soltanto per dire a Senaldi che la legge Mancino in realtà è molto poco applicata è una delle leggi meno purtroppo applicate in Italia io dico purtroppo Morvillo io direi magari scusami Davide magari non è applicata perché non ci sono reati ascrivibili alla legge Mancino questo mi sembra veramente magari perché noi per esempio sappiamo che le aggressioni nei confronti degli omosessuali sono molto meno rispetto a quelle delle donne e addirittura molto meno rispetto a quelle nei confronti degli uomini quindi magari se la legge Zan non sarà applicata magari è perché non vengono aggrediti molti omosessuali il che è una fortuna non è una sfortuna Lei pensa che sia così se neanche No io sono costretta a dissentire di nuovo perché i reati rispetto ai motivi legati all'homo bi-lesbo-transfobia non sono registrati nella maniera corretta ma non per colpo ovviamente delle nostre forze dell'ordine però questi sono dati è venuto fuori da un'indagine proprio anche un'analisi insomma della pulizia che sono reati che rispondono a criteri di under-reporting e under-recording anche questo ho detto nel mio discorso oltre alla frase sulla mamma e quindi ovvero che le vittime hanno difficoltà a denunciare l'aggressione la discriminazione la violenza che subiscono per quella che è perché se ne vergognano perché tante volte la loro sessualità è nascosta alla loro famiglia ai loro amici oppure proprio hanno un senso di pudore per loro stessi perché c'è ancora da fare dei passi avanti rispetto a questo e gli organi di polizia quindi hanno difficoltà a registrarli per quello che effettivamente è nella fattispecie insomma del reato che è e lo classificano in altre aggressioni per questo i numeri sono bassi chiaro non finisce sotto la legge Mancino ma finisce sotto un reato comune o minore come un reato comune candida sì vai io voglio rispondere sulla paura ma anche se mi date un secondo sui reati sulle aggressioni contro gli omosessuali perché non ce ne saranno tante denunciate nei tribunali ma io sui giornali di oggi e di ieri ne cito a memoria tre oggi a Bacoli delle ragazze aggredite a Napoli sulla spiaggia cacciate dalla spiaggia ad Arezzo un ragazzo di 20 anni preso a pugni mentre andava una manifestazione animalista e ad Arzano due ragazze schiaffeggiate sempre praticamente quasi linciate dalla folla perché si stavano baciando e sono state prese a schiaffi dalle persone presenti così due ecco tre notizie prese a caso proprio sui giornali di oggi la paura la paura che mi colpisce del discorso di prima è quella della mamma della parlamentare Masini perché quella mamma era una mamma moderna era una mamma un medico e come ha raccontato lei nell'intervista al Corriere della Sera era una madre alla quale non c'è stato bisogno di dire niente che ha capito da sola che quella ragazza che a un certo punto era scappata in Belgio senza dire niente a nessuno poi era tornata ecco aveva in realtà una sua crisi personale perché aveva preso coscienza di una sua sessualità che non aveva compreso prima e il modo in cui Barbara Masini racconta che la madre l'ha capita senza chiedere quello era veramente commovente ma quella stessa madre è la madre che ha detto io però ho paura e la sua paura è purtroppo ancora comprensibile a distanza di tanti anni perché quello che le ha raccontato accadeva più di 20 anni fa forse 25 anni fa ma è la paura ancora di tutte le mamme questi ragazzi che ho citato prima le due ragazze che si baciavano ad Arzano il ragazzo ad Arezzo hanno delle mamme che tutti i giorni hanno paura Candida lo riprendiamo tra poco abbiamo una brevissima pausa e riprendiamo da te tra pochissimo lo vedo anche su questo tra poco Siamo ancora qui con Barbara Masini senatrice di Forza Italia con la quale stiamo parlando di DDL bisognerà dire disegno di legge che non c'è questo so di lingua disegno di legge ZAN rispetto al quale Matteo Renzi immagino presentando il suo libro in circostanza prestigiosa stasera ha appena detto che sta diventando una bandiera per il Partito Democratico che lo usa leggo scusate il telefono perché ho l'agenzia sul telefono lo usa per farne una bandierina per le amministrative cioè dice Renzi Letta vuole solo allungare i tempi perché sanno che l'unica proposta che può passare è la nostra senatrice ZAN no magari senatrice Masini magari avrei una legge così discusa senatrice Masini adesso la situazione oggi che punto è? va a settembre non va a settembre? intanto a me piacerebbe leggere me lo sono proprio portato dietro il titolo di questa legge perché non è la legge ZAN siccome è una legge che interessa a tante persone è una legge su misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso sul genere sull'orientamento sessuale l'identità di genere e sulla disabilità questa è la legge e ma non sta nei titoli di DLZ sta nei titoli però dietro quello c'è questo ha ragione secondo lei invece i numeri ci sono perché per votare questa legge questa è una domanda difficile perché si voterà con il voto segreto e magari da una parte pensano di averli e non li hanno magari da un'altra pensano che non ci saranno ci saranno il voto segreto è sempre un rischio e anche l'idea di fare campagna elettorale su un tema come questo non so quanto sia felice ma insieme vediamo anche con Pietro Sanardi e Candida Morvillo il servizio che Luca Sappino ha realizzato intitolato anche noi siamo famiglia seguitelo sono Andrea e sono sposato con Dario con cui in realtà siamo insieme dal 1986 quindi siamo arrivati a 35 anni e qui abbiamo Artemisia con Jacopo e Chloe appena nati e qui abbiamo Carilin e Tara Carilin è la donna che ha portato Artemisia Jacopo e Chloe in Grimbo e Tara è sua moglie perché sono una coppia lesbica che ci ha voluto aiutare in quanto coppia gay questa è la nascita di Artemisia viviamo con i nostri tre figli tre gatti un cane e una tartaruga a zoppa noi siamo sicuramente una famiglia non mi sembra più di avere problemi con la mia omosessualità mi sembra di avere molti più problemi quotidiani collegati al mio essere marito genitore i problemi che avrebbe qualunque famiglia numerosa noi siamo credenti e praticanti in parrocchia i nostri figli hanno frequentato un lungo percorso che si chiama il Buon Pastore da quando erano tre anni e mezzo questo caldo i calzini dobbiamo andare dobbiamo andare fuori dai nel 2015 io ho avuto l'occasione di partecipare insieme alla parrocchia a una messa con Papa Francesco a Santa Marta e ho chiesto al parroco se potevo scrivergli una lettera il nostro problema è inserire i nostri figli in un contesto comunitario parrocchiale la cosa diciamo sorprendente è che poi due giorni dopo ho avuto una telefonata da Papa Francesco quando ho letto della mossa diplomatica che la Santa Sede ha voluto fare per in qualche modo influire sulla modifica del DDL ZAN mi è venuto da sorridere Papa Francesco sta guidando in maniera abbastanza netta la chiesa verso una direzione e queste mosse sono proprio incoerenti mi piacerebbe che l'Italia arrivasse a essere un posto veramente inclusivo come lo è il Canada l'Italia è un paese che non ha il matrimonio egualitario è un paese che non concede l'adozione né ai single né alle coppie né alle coppie omosessuali quindi siamo veramente molto molto lontani Allora direttore Senaldi così facciamo un giro tutti su questo quando spesso purtroppo la politica ironizza dicendo ah due papà due mamme e ci costruisce anche delle campagne su questo poi vedi queste storie e capisci che si offendono queste persone cioè io non ridisco quando sento un politico italiano che comincia a scherzare sull'idea di un bambino che può avere due papà e due mamme perché sono storie sono cittadini italiani sono delle persone Senaldi Beh ma sai la politica non è che ironizza esclusivamente su quelli che hanno due papà o due mamme la politica ironizza su tutto l'insulto dell'avversario e quindi del cittadino che l'avversario ha votato direi che è una prassi abituale di tutte le forze politiche Però di questa famiglia Pietro Senaldi direttore scusami di questa famiglia l'ha detto la senatrice Masini io votavo Lega ed ero discriminata ancora prima di essere omosessuale l'ha detto la senatrice in questa trasmissione quindi discriminano gli omosessuali a Pistoia discriminano i leghisti se dovessi commentare questo servizio di questa famiglia l'ha detto la senatrice mica io cattolica contro i bambini 1992 ora la Lega è un partito molto forte quindi nessuno discrimina la Lega a Pistoia però Senaldi ma no lei si sbaglia senatrice nessuno discrimina la Lega allora Senaldi nessuno la discrimina in Parlamento perché dà le carte ma altrove i leghisti i meloniani sono discriminati allegramente è un partito ampiamente votato nella mia città lei è stata portata lei è stata portata in Parlamento da Berlusconi che è stato lo zimbello di metà del paese per 30 anni la discriminazione è una cosa come no non scherziamo discriminare un omosessuale è stato espulso dal Parlamento con una legge inventata per lui per stare una persona in un vicolo fino a margine non vorrei entrare in un impasse passeremo tutta la sera ma lei si ricorda senatrice che al capo del suo partito gli tiravano le statuette e la sinistra rideva ma chi ha applaudito ma non si vuol dire che la sinistra ha applaudito mi scusi ma mi sembra che stia portando la discussione ma non ho detto ho detto che sta portando la discussione dove non deve essere portata allora io penso che mettere sullo stesso livello Senaldi penso che mettere sullo stesso livello la persecuzione di Silvio Berlusconi e quella di una persona omosessuale che viene pestata in un vicolo dal branco non faccia onore diciamo così alla tua capacità di analisi e di giudizio ma è una mia opinione senza dubbio invece volevo chiederti un parere su questa famiglia perché questa famiglia è una famiglia di genitori cattolici ricevuti dal Papa a Santa Marta che apportano i figli in parrocchia che fanno una vita come dire assolutamente usuale ordinaria e quindi che impressione hai avuto rispetto al fatto che questa famiglia dicesse l'ingerenza del Vaticano ci è sembrata molto strana e molto inusuale se dovessi scrivere un editoriale su questo servizio cosa scriveresti la solita roba di sinistra perché non mi sembra che sia esattamente così la realtà che abbiamo visto ma no io penso che il Vaticano quando ha mosso i propri io penso innanzitutto che questa famiglia si è potuta formare e crescere i propri figli senza la legge ZAN e quindi forse la legge ZAN non è necessaria per lo sviluppo delle famiglie omosessuali felici poi penso anche che il Vaticano quando si è espresso contro la legge ZAN non si riferiva a diciamo così non ha nulla contro questa famiglia semplicemente ha espresso il proprio diritto a orientare l'educazione cattolica nelle proprie scuole senza dover sottostare a tipo le giornate previste dalla legge ZAN o quant'altro a poter interpretare perché e questo uno iscrive il figlio a una scuola cattolica poter diciamo divulgare i precetti del cristianesimo e ci sono le io non sono un esperto di cristianesimo ma parabole tutte queste cose qui che possono essere diciamo così criticate dalla legge ZAN quindi vabbè Gesù Cristo è morto e quindi non può essere processato per aver violato la legge ZAN però io credo che qualche prete forse sì e questa nessuno osere io penso eh la parola parabola ma tu non conosci i giudici italiani ma tu non conosci i giudici italiani si può dire tutto secondo me parabola se per me si può dire guarda mi tolgo anche la cravata a quest'ora della notte perché parabola prego però sulla parola che un giudice italiano possa o un uomo sessuale possa impugnare una parabola del Vangelo per dire che è contro l'uomo sessuale ma questa è una follia ma nessuno lo sostiene questa roba ma io sono stato scusami io sono stato processato e condannato per aver usato il termine patata bollente che significa una grana ma hanno detto che era un istrutto che è scusica ma stasera i giudici cosa pensano Pietro scusa Senaldi Pietro anche lui è stato condannato stasera i confronti non sono venuti bene diciamola così stasera diciamo i confronti non sono venuti bene ma no da tutto punto di vista io ho capito a cosa ti riferisci quel titolo il titolo patata bollente riferito a Virginia Raggi ecco diciamo stavamo parlando di parabole patata bollente io dai su Senaldi una grana una patata bollente in italiano non è una prostituta se ci pensi Senaldi su questo tema non vengo cioè non voglio più parlare di patata bollente per me la questione è chiusa qua andiamo da Candida Morbillo Candida ti piaceva quel titolo di libero che adesso non rinomineremo? lo trovi un paragone pertinente no non mi piaceva neanche quello su Calano no non mi piaceva neanche tanto quello che diceva Cala Cala il fatturato e aumentano i gay francamente mi piaceva invece il servizio della famiglia che abbiamo visto prima perché insomma abbiamo visto nella loro intimità facevano anche la lavatrice mi ha colpito il dettaglio perché poi insomma niente racconta la vita quotidiana come il lavoro domestico e credo che insomma di anormale in quella situazione insomma o di distante dalla normalità ci fosse semmai il fatto che queste due persone si amavano da 35 anni che ormai è un record per moltissime coppie e mi ha fatto venire in mente una storia che ho potuto raccontare di recente di un'altra coppia di persone sposate che non vivono la stessa libertà e mi è venuta in mente perché prima c'era con noi Sandro Veronesi un premio strega io sto parlando di un altro premio strega che è Walter City che mi aveva raccontato sul Corriere di essere sposato ma che suo marito non dice al lavoro e non dice in famiglia di essere sposato con un uomo ed è una storia che colpisce molto perché stiamo parlando magari di un'altra generazione ma stiamo anche parlando di una coppia colta di uno scrittore che ha raccontato l'omosessualità in tantissimi modi vincendo anche il massimo premio letterario di questo paese e tuttavia si trovano ancora nella situazione in cui lui l'altra metà della coppia dice beh io al lavoro preferisco non dirlo e quindi questo ci dice che la discriminazione esiste che ci vuole grande coraggio per essere quella famiglia lì che abbiamo visto stiamo per chiudere in che senso non dipende dalla società italiana scusate questo non dipende dalla società italiana questo è un problema di questo signore con se stesso che non si rapporta all'esterno rispetto a quello che lui è ma non dipende dalla società italiana io non mi sento colpevole perché ha paura perché ha paura e quindi torniamo dalla senatrice Masini non so che il motivo perché ha paura e quindi la paura è all'origine di questa storia è l'inizio e la fine di questo discorso io l'ho detto senza la libertà dalla paura non si può usufruire di nessun'altra libertà se non si vive libri però la paura non è una buona consigliera per far la legge senatrice su questa ragione la paura non è una buona consigliera per far la legge il chirurgo non opera il figlio sì però credo che sia esaurito il tempo dovremmo stare tutta la serata a discutere di dove la legge non è scritta bene non è nemmeno un buon motivo alcuni dei motivi che lei ha detto non sono quelli validi per criticarla per esempio ha detto questa famiglia si è formata anche senza la ZAN e questo mi riprova di nuovo che il mio discorso non l'ha sentito io ho esordito dicendo questa legge non si occupa di adozioni di gestazione per altri eccetera si occupa di altro poi dovremmo fare altre due ore su questa legge magari su alcuni punti le darei anche ragione mi scusi senatrice il servizio che non c'entra nulla con la ZAN è stato messo dentro a favore della ZAN ma non è stata una decisione mia che è una favore della ZAN è una storia è una storia non è a favore è una storia che racconta ma chi te l'ha detto ma chi te l'ha detto ma chi te l'ha detto non l'ho messo dentro la discussione si protrerà e quindi può tornare quando vuole a illustrare che cosa le piace e che cosa non le piace grazie grazie al direttore Senaldi Davide Senaldi Camila Morvillo un saluto al direttore e alla giornalista Morvillo ci auguriamo di avere anche domani sera l'onore della vostra attenzione a domani